e siamo ufficialmente online buonasera buonasera luca tra l'altro io sono rimasto sorpreso perché lorenzo fantoni è veramente toscano c'è anche dal vivo abbiamo lo meglio per far vedere che è veramente toscano ci abbiamo dei ritorni strani sentite anche voi c'è qualcuno che sta cercando di infiltrarsi nella nostra live penso che siamo noi stessi perché non vedi commenti perché sono piccoli tranquilla ma senza i commenti come facciamo a correggere dario quando sbaglia le regole è vero e ci sta roberto che è una delle sue ragazze i vostri nomi tipo striscia la notizia qua davanti io sono vestita esattamente come un annunciatrice mi fa molto ridere è che denise sembra ancora chiaramente una buonasera italia la cosa però col braccio appoggiato così così oppure mi verrà una paresi dipende io intanto sto così così si stai bene un bel green screen esatto con le notizie del giorno la notizia del giorno grazie va bene quindi niente ci siamo cioè l'ultima l'ultima però voi siete lì a lucca io direi che da di meno due parole su lucca potete farle anche voi c'è lo stesso dito ma ci abbiamo avessimo soltanto qualcuno che ha organizzato qualcosa via lucca cosa mi dice di lui che cosa avete fatto oggi allora per chi non fosse aggiornato lucca comics and games quest'anno è lucca changes cioè un'edizione che è venuta incontro alla situazione complicata che è un modo carino per dire la situazione di merda in cui troviamo è una lucca completamente virtualizzata per chi la fruisce parte parte virtualizzata in parte in presenza per chi invece è qui e partecipa allo show quindi abbiamo tantissimi ospiti abbiamo tantissimi palchi da qui montiamo i contenuti ci sono più di 200 contenuti al giorno che si possono fruire sui canali social di lucca e sulla rai tanto su rai 4 quanto su replay quanto su radio rai e questa è l'ultima sessione di trovinze and dragons che tradizionalmente era ospitata dal canale twitch nel core di lorenzo che invece questa sera ci si sposta sui canali social di lucca poi te ridaranno i click in qualche maniera una busta arriva una busta a casa però la caricheremo sempre sul nostro canale ovviamente la caricheremo poi sul nostro canale youtube e dovremmo stare in diretta spero che qualcuno ci sia già guardando il master nicola di cobbis no l'arbitro siamo l'arbitro sbagliato siamo ben 5 in presenza e 3 in virtuale che ci racconta un po che mondo strambo qui stiamo vivendo in questo periodo è un arbitro grazie bellissimi capri ragazzi vi invidio molto lucca lucca mi manca un sacco l'ho sempre amata selvaggiamente però quest'anno va così lucca e sempre lucca ci sono un sacco di bellissimi panel domani ma compagno anch'io a mezzogiorno non perdetelo la seconda serata ricorda io domani sto con pezzali su un palco vi siamo in matrix signore e signori questo quadro mi sembra cosa chi è il cazzo più lungo e ha vinto marchino e pedro e ciao marchino ciao pedro perfetto siamo in prima parte volare anche max così facciamo veramente il top allora ragazzi bene siamo all'ultima sessione di questa cosa ormai la terza campagna la quarta campagna la terza la terza la terza ormai c'è le tante così i personaggi di drogues and dragons e l'ultima volta è successo un mezzo disastro ma innanzitutto il sommo ogre radioattivo vi ha massacrato ha massacrato svariati personaggi immediatamente ha fatto una frittata istantanea del povero haffling e della povera cataratta dopodiché è stato il turno di come si chiamava qui no brinno brinno prima è stato il turno di brinno che accompagnato dopodiché il saggio nano che quello che si sta comportando in maniera più cauta di tutte ci cerca di evitare più sconti possibili ha invitato il povero fratello di brinno quino a assaggiare un personaggio speciale si è seccato il veleno ed è morto malissimo quindi è arrivato subito dexto braxto come texto dexto perfetto le nomi allucinanti e nel mentre fra opalino per la giustizia divina ha gentilmente accompagnato l'elfo rio all'interno della stanza del dell'ogre questi è stato leccato selvaggiamente dall'ogre questo affronto non poteva essere affrontato e quindi ha fatto un bellissimo seppucco sventrandosi e morendo tra le mani che mi sembra la cosa migliore che se potesse fanno esatto avendo capito che forse era il caso di lasciare morire tra trocci sofferenze la sorella afling metatarsia siete recati nella parte sud del del dungeon dovrà anche essere coperta riguardo a colpa della vostra esplosione e il nano ha sentito della sua dama bianca la dama delle nevi la sua non so se la sua amata o comunque la dama che loro proteggono come ti permette in quale amata ma sta protetta protetta assolutamente platonico la vostra protetta è una storia brutta riccardo è incentrato in qualche modo con un ceppo del colpo di sta ceppa tra parentesi l'ocra aveva un enorme ceppo tatuato quindi una serie di vicissitudini dopo direcate nella zona a est del dungeon dove piena di gnomi dove il fratello dell'elfo che non mi ricordo come si chiama come si chiamava il tuo secondo elfo roby aspetta che l'ho cancellato sami 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 fa una morte orribile anche lui perché uccide il nuovo armato di ascia che giaceva al piano inferiore di questo letto a castello ma danno sopra si butta questo piccolo coltellino si attacca lo giugolare apre letteralmente lento e sovviene il personaggio più fastidioso di tutta questa campagna ovvero il terzo elfo di roberto scusate rendete conto che questo è solo il terzo non avrà più bisogno di altri elfi il nostro game master andremo d'accordo per tutto tempo volete fermare spettatori che si commentano che commentano male nei commenti che si vede male da lucca che si si vede male da questo gioco di fantasia e comunque per ogni spettatore che si lamenta dieci goblin verranno uccisi e poi regalo lucca lontana una cifra cioè comunque ma poi c'è il teatro della mente guardatevelo come podcast mentre lavate i piatti allora è quella giusta sono le nove e mezzo in tutto ciò abaco il secondo mago della quartiere e quartieri decide di prendere l'ognomo sopravvissuto come stagista per una fine orribile gli stagisti e mette il sufficio nella prima stanza dei nani in quello arriva non mi ricordo come si chiama il interior designer rigoberto cavo di goberto ricordatevo bene la vera di classe di expertise e invece scusami e denise come si chiama il vecchio incoglionito e io c'ho diabetus poverino che soffre di tali di zuccheri e c'è invece minolo pendulo come si chiama allora con nicola ma te non mi conosce l'anatomia alluce illice trillice pondulo e mellino ecco vorrei far notare che tale definizione non è mai stata riconosciuta da scienza sono più no mignoli ma se vogliono la mano lo mignolo conoscete quindi come la luce ma con la i due volte il liceo nicola sta facendo anche va bene al massimo ma secondo me c'abbiamo sempre oppinabile ma quindi c'è e fra upalino e fra quarsino fra ieri tra ieri adesso adesso c'è ieri fra ieri o palino o fra upalino e non confondono fra gangino mi raccomando quindi ci siamo sto composto da ad elfo non mi riconoscero nome ad elfo va benissimo per il mago interior designer dexto uno dei guerrieri abbastanza speciali e diabetus della lava la lega arzilli vecchietti a raffoni illice l'aflin che non sa perché lì è ormai ha deciso di lasciare abbandonare tra l'altro ci sofferenza la sorella è più lo stoico è più quello che si sta comportando meglio di tutti con estrema o peggio calma cautela e poi fra upalino che è il deus ex machina che risolve sempre i problemi che fa è vero però vi ricordo che ci siamo lasciati la scorsa volta che mentre adelf stava insultando uno gnomo la porta si è aperta sono entrati gli gnomi che volevano portare il pranzo ai loro o la cena ai loro ai loro fratelli più di una ventina hanno visto questo gnomo morto per terra e non l'hanno presa molto bene ma chissà perché ci sono una cosa di pagna stupidi gnome vi ricordo che sempre a est la visione che aveva avuto fra upalino e le voci che sentivate dalla bian bianca venivano da est da cui sentivate provenire un forte male vi ricordo che all'interno di questo dungeon nei vari posti sono presenti un calice che è sempre pieno di un'ottima ambrosia questo ceppo maligno lo avete sentito? effettivamente avete sentito che c'è questo culto di sta ceppa avete visto anche dei nervubili con questi tatuaggi disgustosi addosso raffigurando un ceppo una meravigliosa in teoria dama delle nevi di cui avete visto anche la una bellissima statua di recente fattura e forse anche la sua aver isato sapete che ci sono anche un'armatura di bianco splendore che può essere indossata solo da chi è veramente onorevole e infine c'è una leggenda anche su una specie di sorgente dell'eterna giuvinezza main führer la stanza in cui ci troviamo ha una sola uscita è bellissima è l'uscita dietro di voi da dove siete entrati è l'uscita da davanti da dove sono entrati questi ignomi stanno arrivando gli ignomi stanno arrivando anche tanti erano 22 se non spazio scusate ma tutto sto parlare di guano e poi ne avevamo una sola di granata di guano l'avevo fatta solo io proprio sì ma possiamo chiudere la porta semplicemente non è che possiamo semplicemente chiudere la porta tra l'altro è anche piccolina basta che ci mettiamo davanti isci di ignomi hanno già entrati in stanza o ancora uscio? sono ancora no sono alcuni sono entrati in stanza che avevano il vassoio l'hanno fatto cadere a terra e sono proprio davanti a te perché tu sei uno di quelli che aveva ucciso uno dei due ignomi a quelli li abbiamo mazzolati sbaglio eh sì io uno è diventato uno stesso c'è ancora c'è ancora Adelf con la sua spada in mano insanguinata c'è intanto c'è Abaco che se ne sta sbattendo il coglione che dietro che sta facendo i conti su un stagista ignomo che lo chiameremo non so coseno se piace ignomo coseno e poi ci siete tutti quanti voi ci sono quasi 20 ignomi sono incazzati che cosa volete fare? 20 ignomi non passano da porta ma siamo ne passeranno due o tre alla volta no? direi di chiudere la porta e sono ignomi la porta è larga un metro e mezzo ce ne entrano molti più posso entrare anche io in otto alla volta e la madonna che sono un signore ho capito che fosse piccolina è un metro e mezzo ragazzi un metro e mezzo gli ignomi sono piccoli ho capito ma saranno uomini non a conoscenza di distanziamento sociale in ordine neilandante che cos'è il distanziamento sociale? ok ho fatto 12 diviso 3 4 ne entrano 4 ma trabomba ma sto di calcoli a cazzo ho detto che sei il miglior arbitro che ci potessi allora ragazzi questa è poi la scena che adesso mi metterò comodo oh no io spare dard e incantate ecco è andata così spara dardo incantato ce ne sono 4 adesso di davanti a voi attacco blitzkrieg noi terminare e passare attraverso stupidi gnamen io non voglio sapere con che mano le vengono a lasciare i sardini a me piace molto la sua tese utilizzata per lanciare un dardo incantato fortunatamente dardo incantato non va a tirate è vero colpisce automaticamente vai un d6 vai un d6 vai un d6 più uno oh l'unico dato che non mai dato è il d6 la sarete stronti se lamentamo 3 hai fatto 3 3 tu mi ferisci selvaggiamente uno gli fai proprio un bel buco all'altezza quasi dello stomaco e vedi che si accascia al suolo ah ah tecnologia magica gli altri si incazzano iniziativa ragazzi vabbè il famoso ho fatto 5 e vabbè e la madonna ti è che ti dico e l'iniziativa diri tu diri tu ha fatto 6 6 6 culo tu culo dico io non vederei più Nicola ok chi inizia con gli incantesimi e chi vuoi tirare a distanza io c'ho tirare a distanza io c'ho gli incantesimi ok quindi inizia con gli incantesimi tira anche se è un dardo incantato non ce l'ho perché se l'è preso no no numero limitato ma che sono queste pacchianate che tutti spariamo da un dardo incantato no perché è la festa padonale la festa padonale hanno tirato fuori le armi questi gnomi no sono con dei fiori vengono vicini mi ha tirato fuori altro Nicola lo sai che se tu hai bisogno di parlare con qualcuno io ci sono sempre anche le salviettine inumidie comunque vorrei parlare mentre voi si è facendo un bordello con le uniche persone che ragionano io stavo per far un discorso sì ma sì è il nostro fior è fra opalino potete per cortesia per cortesia dirmi che cosa fate dove avete visto Adelz che ha appena fatto il scuadone questo stavo castando scusa ma abbiamo fatto iniziativa per un motivo non lo so però voglio sapere che con il loro pensiero posso? poi poi posso ah no ah no no poi tutto no quello è arrivato un po' di elfo no bravo opalino che sei sempre per cortesia mi dai sempre gioia perché lo metti sempre nel culo con sorriso a tutti e cosa fai? distruzione totale io canto questo è clip io voglio stava un Facebook ma signori io voglio siamo uno l'SMS che mi dice distruzione ogni volta arriva un messaggio distruzione totale voglio perfetto è il nome dell'episodio è già il nome dell'episodio chiaro chiaro allora Nicola gliele hai chiesto tu è inutile che fai infatti mi sto dicendo sei proprio pronto Nicola cioè vabbè fra un palino dopo vediamo come distruggi tutto sappi che mi hai dato un dolore Daniele io non lo sento è sempre parte dell'equilibrio cosmico infatti è più top mi dice tu che cosa fai? tu che cosa vorresti fare? io mi avvento verso la porta per chiuderla perché i nani sono i migliori fermaporta è vero è vero ho il mio peso qualtieri impianto davanti la porta per evitare che vengono pure gli altri ma non si allora tesoro mio la porta innanzitutto si apre verso l'esterno quindi devi entrare allora la tengo però ci sono sono entrati hai detto 4 hai fatto così no non ho fatto così ho detto come Denise Denise non è così ma allora me lo smettiamo ma non chiediamo non sono dei cazzo i nani da giardino capito non sono così puoi alzare in piedi Denise è in piedi arrivo più o meno così adesso ti tiro adesso arrivo più o meno così quinto potere la televisione il mare vuoi essere anche tu mi stai tutti quanti sul culo rispettiamo l'iniziativa quindi prima i tiri a distanza ci abbiamo il paragone ci abbiamo il paragone guarda è stato viviamo insieme viviamo insieme noi tre viviamo insieme anzi avviciniamoci un po' per sottolineare allora posso castare? posso castare? casta come le tizie è un altro ah no Natale con la casta una canale con la casta e allora visto che stanno tutti lì scomposti che brandiscono le loro armi senza un minimo di addestramento quelli saranno disciplinatissimi ma che disciplinatissimi io gli dico un disco fluttuante dal basso a spizzare a spizzare così a spizzare con un effetto o senza? eh? con un effetto o senza? con un effetto per cortesia di modo che questi sostanzialmente si accappottino l'uno contro l'altro con i loro coltellini così si nei denti gli dai un disco nei denti mi raccomando Nicola con il modificatore di a spizzare dal basso verso l'altro io gradirei da Poloninzio Magalotti o da Denise che vivono con questo soggetto di fare una traduzione per gli italiani in sicchi esi italiani guarda il gesto guarda il gioco di mano di spizzare il disco fluttuante materiale ringua romana colpire e imprimere effetti cinetico dal basso verso l'altro così guarda guarda fin quanto riesce a tenerlo proprio nel tennis al topspin noia di top a quello che per l'informazione non lo capisce scusate vi troppo lo capisce avete mai visto le gare di russola esatto bravo che cosa stiamo parlando perché sembra che fa della russina perché siamo parlando una forma di formaggio che è madonna che bei weekend hai presente quando dir il sasso sull'acqua per farlo rimbalzare così Nicola ho tirato a spizzare che devo fare Nicola è di viola ormai lui si è rotto Nicola è chiaramente arbitro 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 no signor presidente arbitro arbitro la russola è un bello sport comunque è il capo della federazione italiana russola mettete mi piace alla pagina facebook della russola l'hai chiaramente inventato tu è la fir veramente fir è la fir è la fir questo episodio si chiamerà la russola è un bello sport comunque è anche un bello sport ti trovi tutte e due da Daniele tra l'altro comunque dai andiamo a spizzare forse allora questo disco fluttuante a spizzare allora il disco viene castato è un disco abbastanza grande un metro e mezzo di diametro per due centimetri di spessore di solito fluttua all'altezza quasi della vita del mago appena viene castato che cazzo di verbi viene spizzato spizzato evocato spizzato viene spizzato e vedete proprio come cazzo si chiama Merigo Rigoberto che lo spizza il disco si inclina e viene con un effetto passa davanti agli gnomi e a questo punto per vedere se è effetto oppure no fammi un tiro per colpire mio caro Rigoberto devi tirare e in base a quanto è tirato vedi che classe armatura tu devi solo tirare dimmi il numero ok 12 più qualcosa quindi colpisci classe ma colpisci classe armatura 7 ma ammazza ci stanno tutti i numeri ma già bello sto gioco lo sai lo produce in games purtroppo purtroppo gli gnomi eretici adulti hanno 14 cc a 5 quindi il disco spizzola ma ti dirò di più uno dei gnomi con un pochettino più grosso il cuoco lo chiameremo Regognomo o gnomo Berto prende il disco l'evitante guarda i suoi e dice compattetevi dietro e lo usano no come scudo si come scudo hai visto come ho spizzato vabbè Nicola questo solo perché ci sei andato in puzza se è una ragazzina ne parliamo dopo forca puttana e solo me forca puttana forca puttana così sentite che perché non si può comportare così era ma l'educazione senza senso non fidarsi dell'arbitro Nicola siamo ancora con gli attacchi a distanza giusto si immagini attacchi a distanza ok faccio il secondo dardo incantato per colpire chi ha preso lo scudo mistico del mio compagno vai camerata camerata vai tiro il D6 dottore tiro il D6 schiopo più più 1 6 più 1 6 quello che ha il disco il disco si infrange viene colpito in pieno nel petto gli fai un buco perfetto vedi dietro attraverso altri gnomi non è che va continuando avanti il Darden ammazza uno dopo tante volte va una filotta stanno tutti i randimenti sopra il 15 si 18 ammazza ammazza un altro ma ti vedevi questa questa gnoma con una lacrima che gnomo Roberto era il suo promesso sposo ma certo che lo era lo vede morire davanti non potrò mai vivere senza gnomo Roberto si mette in traiettoria con il Darden di incantato e muore mi piace una storia d'amore anche a lei cavo anche le famiglie anche le famiglie mi spiace non incontrare il suo favore ma in Führer da buono che se fa monartorio adesso è una perfetta forma di formaggio da ruzzo allora ricoperto agito Adel Fagisto chi è ancora a distanza? io che non mi vedi quindi non è inutile che alzo la mano ma Illice è a distanza tuttavia quello che sceglie di fare Illice visto che ripetiamo uno spirito di sopravvivenza molto sviluppato è prendere il cappello di un gnomo morto metterselo e mettersi vicino a come si chiamava il tuo stagista? Coseno Coseno e per finta eh sì a questo punto sì faccio finta di essere seno mi metto anche io lì a scribacchiare vicino a Coseno col cappello te posso chiedere una cosa? da quando giochiamo a Dungeons & Dragons io stimo tantissimo i giocatori che fanno qualcosa più di attacco ma tu non l'hai fatto mancuna volta è il suo superpotere lo vorrei attaccare a qualcuno c'è una fionda però aspetta ha fatto una ghironda di fuoco che leva comunque ovviamente ci sta Abbaco che riconosce la tua famiglia e fa oh carissimo dai su riporta il quattro inventariare metti rinventario ma non lo sa lui lui fa così pensa in inventario e niente io faccio finta di scribacchiare vicino a Coseno e sto che bello sono l'unione c'è due pigi in campo e anzi cerco la simpatia di Coseno perché se no è già andato tutto in vacca vabbè Nicola io posso così andiamo scusa che mi sta prendendo la lacrima io non ho capito che cazzo fai lì allora arbitro la situazione è molto semplice noi ci troviamo all'interno di una colluttazione che sta avvenendo in un ufficio rinnovato meno un ufficio e io voglio lavorare quindi mi metto vicino a Coseno e lavoro Madonna giuro che ti ammazzo che sono qua per lavorare e quindi qualcosa di diverso da quello che fai di solito quello che dici lavoro guadagno pago pretendo anzi batte anche un po' la mano sul tavolo per dire allora no che poi il microfono rimbomb va bene Nicola posso posso cambiare azione arbitro fate voi non so più come insultare arbitro posso cambiare azione noi stiamo in fondo ferma porta sì sì certo è tu sei per ultimo vai 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 old school bisogna trovare le cose allora diabetus sì diabetus che cosa fai? allora io nell'ultima sessione stavo ancora per terra perché stavo cercando di prendere il cibo che era caduto perché ho avuto di nuovo un caldo di zuccheri approfittando della crampi allucidanti una settimana per terra in ginocchio cioè nel senso una roba allucidante un acido lattico che mi guarda guarda che brutta la vecchiaia signora mia e approfittando della mia posizione già insomma per terra usando la mia esperienza di ladro cerco di nascondermi per girare dietro agli ignomi dietro lo scudo senza farmi vedere lo scudo non esiste più l'ha infranto hai detto 2 su 6 quanto hai di percentuale? esatto che percentuale hai? 12 giocatori allora nascondersi nelle ombre ma non penso che ci siano le ombre c'ho 10% sennò dove attacco furtivo muoversi silenziosamente muoversi silenziosamente 20% vado vabbè voglio andare dietro per attaccare ma dove stanno tutto entrando dalla porta vabbè lui se ne si mette di là e gli fa capito ma sono davanti e 4 4 diabetus a muoverti dietro gli ignomi ok perfetto per non puoi attaccare mancano happy dextro dextro tuoi mani anche lui fra o palino io ho un molto semplice come sai io faccio parte dell'ordine del gomito alzato quindi faccio questa è acqua eh però forse almeno grappa credono tutti queste benzina e poi vorrei provare che non ho mai provato però arbitro non so se si possa io ho una mazza però vorrei a distanza provare a lanciare una mazza quindi diventa un'arma a distanza una mazza lanciata a distanza assolutamente vorrei provare a lanciare la mazza a uno dei nani che è rimasto ammazza che mazza ammazza che mazza davanti a voi ce ne sono due ma dietro ce ne sono altri 17 allora mi descrivi le facce di questi due mani io voglio 17 facce le scritte allora uno a questa faccia qua ammazza sembra il fratello del figlio oh signori questo ha preso la md lo smascello mi è piaciuto mi è piaciuto perché Nicola Daniele cercava proprio qualcuno che gli stesse sulle poste voleva decidere chi mi sta più sul cazzo dimmi cosa devo fare perché io ho mazza uno di sei ma quindi cioè no prima devo colpire come funziona ancora sempre di 20 è un moltiplicatore di più 3 qui adesso tira il di 20 al risultato aggiungi 3 brava di 20 12 più 3 15 colpisci carta natura 4 che è quinto quanto hanno loro quindi adesso tira il danno della mazza che è un di sei sì no io qui ho di sei ma ne avete fatta voi la scheda eh ragazzi è una mano pensavo a due mani a una mano di sei un di sei quattro quattro tu lanci la mazza c'è il tipo proprio che gli è salita tutta di acoli che sta smascelando duro lo becchi in mezzo alla fronte e il tipo si è convinto di essere omega rave cade per terra strammazzando il suolo morto e c'è la sua mazza che riesce riesce dal cranio e ne abbiamo fatti fuori 4 su 20 possiamo trovare soluzione più febbrava se quelli dietro sono anche morti adesso nella stanza ce n'è ancora uno beh no scusa io ho fatti fuori 2 uno l'ha fatto no io ho fatti fuori 3 3 e uno è una Daniele 4 un punto ferita ah che cazzo allora dentro la stanza ce ne erano 4 uno è rimasto un punto ferita uno è morto che l'ha ucciso tu l'altro è morto che l'ha ucciso Daniele e dietro nelle retrovie hai ucciso hai ucciso anche quello di Gnomo Berto che si è messa davanti al tuo Darding ok quindi nella stanza ce n'è ancora uno con punto ferita e un altro che è sano ma gli altri sono nel corridoio che stanno arrivando cioè sono no me ne manca uno posso agire Nicola me ne manca uno come te ne manca uno io ho sparato due Darding incantati ho ucciso tre Goblin ma tu ne hai ucciso uno davanti a te Gnomi non go uno davanti a te e uno dietro che era la moglie di Gnomo Berto e quello con un Darding l'altro rimasto ma io ne ho usati tu e di Darding cantare ho fatto 3 danni col primo che ha fatto hanno 4 punti ferita ha ancora un punto ferita ah ok quindi ho fallito ok ho fallito cosa ne penserà la tua gente se non di sonore per la parola per me ho fallito posso fare qualcosa ragazzi che non c'è bilanciamento nello school ma dopo che viene ucciso il primo viene fatto un tiro morale io l'ho fatto e l'ho passato quindi continuando ad agire quando muore la metà adesso si farà un altro tiro morale se passa scappa l'altra metà scappa in realtà è come se voglia avesse sconfitti tocca a Riccardo tocca a me o a me o a Riccardo prego Epi fai qualcosa io non voglio non voglio attaccare visto che ho capito che non ci possa arrivare ecco se guardo la mia splendida mappa la porta da cui loro sono arrivati è accanto al letto al castello dove stavano gli ignomi che dormivano io con la mia forza bruta provo a spostare se non addirittura sollevare il letto al castello per farlo cadere davanti la porta lo aiuto gli do una mano facciamo in due ma bellissimo bellissimo magari facendo lo schiaccio l'ultimo strozzo per quelli che ci seguono da casa Nicola è felice solo perché qualcuno ha fatto qualcosa che ha senso questo è il motivo per cui ci tenavamo specificarlo però specifichiamo anche che Riccardo ha la mappa quindi aveva delle informazioni che noi non abbiamo se lo aiuti se lo aiuti puoi fargli un tiro una prova di forza con due di 20 con anzi con uno scegli o due di 20 o un di 20 con un modificatore di meno 4 quindi c'è devi far basso e quindi per questo tutta mia responsabilità e facciamo due di 20 quindi felici due di 20 di 20 con modificatore meno 4 va bene di 20 meno 4 o forse già era buono bastava anche il 14 tu prendi il letto a castello prendiamo secondo me esce pure qualcos'altro il letto a castello con estrema violenza che finisce proprio sulla capoccia dell'ignome rimasto quello che è un punto ferito e una mezza schifezza l'altro viene schiacciato ed ecco qui e gli urlo buonanotte per curiosità come sono fatti i letti a castello arbitro e lo portati eh no ho capito perché l'ha chiesto hanno di merli delle grate e il letto sotto e poi c'è uno spazio tra il letto sotto il letto sopra cosa c'è tra le tessuto letto sopra spuntoni l'amore l'entusiasm dei rostri trattandosi di un castello rostri perché ci sono tanti ci sono tanti ignomi che fanno 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 ignomi ma in mezzo è vuoto è detto io vabbè quindi non solo gli ignomi iniziano ad arrampicarsi nella parte sotto ma anche nella parte sopra in modo tale potrebbe attaccare dall'alto quindi non entrano 4 ma ne entrano 8 più lentamente Nicola più lentamente un pochino più il lato questo turno 4 al turno successivo il letto ha fatto casino cadendo si però ne ha fatto casino siamo sinceri ci mettono di più ad essere entrato cioè ci avremmo tutti in attacco di opportunità tra virgolette devono passare un passaggio più stretto che gli passate ma anche voi dovete passare in mezzo a un cazzo direi no li aspettiamo li passano li trafiggiamo ma ti pare che sto che io mi mettiamo in tarla le termopili mi bovino la giacca a saltare io aspetto che caracollano fuori sto letto di trapasso con la mia giusta lama allora loro con estrema calma passano arrabbiate hanno anche un riposino sotto dopo di che caracollano verso la lama di adelf da soli prego non vi faccio ritirare iniziativa potete rifare voi la linea gothica stiamo facendo di fatto quello di prima quindi potete ricominciare tocca quindi a chi vuole castare qualcosa io vorrei castare una cosa Nicola ma ti volevo chiedere un'informazione sugli gnomi vabbè però lo stai a sfidare che usi però i vocaboli conosciuti dalle persone italiane guarda i vocaboli conosciuti soprattutto da tutti i membri a parte mi confermi che per quello che sa il mio personaggio lo sport preferito degli gnomi è la ruzzola e stavo a quattro bello Daniele Dani per Oassi per wingman e steco in continuo ovviamente tu sai che Spin Gnoms è stato l'ultimo grande campione del campionato mondiale gnomesco di ruzzola allora vista la descrizione che tu stesso arbitro e che io ascolto hai fatto del mio disco fluttuante somiglia molto a una forma di formaggio e quindi io lo tiro inclinato nel corridoio sperando che tutti gli gnomi gli corrano dietro per la loro grande passione per la ruzzola è ancora castato il disco fluttuante no ne fa un altro ne faccio un altro abbiamo molti molti dischi ma non potevi semplicemente rifare quello che hai fatto così eh pecchieri ma Nicola non avrebbe fatto quella faccia lì se lo fai sul letto lì sollevi tutti insieme non credo ruzzola hai provato hai provato mio caro ricoperto il caro ricoperto ti do due opzioni quello di prima era largo un metro e mezzo e alto e spesso 5 cm ok puoi farlo largo mezzo metro ma alto parmigiano quindi con una forma di parmigiano ok o come una mega pizza gigantesca che cosa vuoi fare la forma di parmigiano ovvio per la prima la patria del parmigiano ma perché no tagliato scusa ok e lo tiro ovviamente in verticale così in rotola facendo vuzzola 5 a doppia mano questo è doppio a doppia mano doppio è bello è sempre bello quando gli fa doppio vediamo quanti gli vanno dietro adesso si scollega Nicola lo scollega ma tipo butta il pc direttamente cioè proprio amici di lucca è finita qui la sessione allora vedete che alle spalle degli gnomi c'è effettivamente un corridoio abbastanza lungo vuoi far sì che questa ruttura colpisca gli gnomi o li vuoi solo distrarre voglio solo che distrarli voglio che gli corrano dietro certo mi raccolpiamo gli gnomi perché doveva essere anche utile due guerriani non attaccano quello non attacca quello non attacca mi piace mi piace voglio premiare anche la tua obiettiva quindi ti chiedo di farmi un tiro di carismo ovvero per persuadere questi gnomi che quella sia veramente una ruzzola devo andare sotto devo togliere quattro a quello che mi dai a quello che esce fuori uno la ruzzola definitiva non c'è mai stato un torneo di ruzzola così quotato da queste parti esiste davvero la ruzzola la stavo cercando la stavo cercando ma c'è il cartello con scritto attenzione gioco della ruzzola e che il fatto che hai esposto nel tangente di solito si si è in alto che non si vede bene ma c'è ruzzola questa è la fascia degli gnomi questa l'ha fatta solo quando ho scoperto la chironda questa fascia non ho parole perché io mi immaginavo quello che stava facendo adesso ricoperto ho cercato ruzzola su google ho detto ma non esisterà ed è esattamente c'è un gruppo di vecchi rincoglionisti che gioca la ruzzola no c'è anche Daniele non offendere non offendere Daniele che c'è no no quella lì è chiaramente un dipartimento del Lava esatto sarà la old la squadra old no che poi ti fatti i rappennagli dietro Dario adesso che ho scoperto che esiste la ruzzola se puoi fare quello che vuoi ho pure fatto uno cioè probabilmente l'ho creata io facendo uno dimmi tu cosa succede fai due parole appunto io molto gaudentemente faccio ruzzola e tiro questo vaso che c'entra con un rimbalzo c'entra esattamente il distanziamento tra i due letti e quindi va giù per il corridoio e tutti gli ignomi felici ti vanno dietro salvo che io devo trattenere Fraupalino che è anche lui appassionato di ruzzola e lo trattengo fortemente per non farlo andare perché lui piotta come il fio della mignotta io sto lì no 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 guarda che non dire zivo cavo piotta come il fio della mignotta per gli amici a casa che non si roma vuol dire corre forte forte come se sua madre facesse un lavoro notturno come ha detto lui grazie no perché no io devo dire il segreto per giocare bene con la russa è quella di cercare di seguire no ma è vero di seguire con la mente e correre dietro vai 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 devi dare la direzione è un po' benissimo tu attraversi la russa e la russa è una roba molto è sempre è vero fra un palino fra un palino fammi immediatamente immediatamente un tiro su saggezza no lo sto tenendo Nicola è una roba immediatamente però c'è il bonus io ho 16 di saggezza non ti ha lasciato troppo credi nel dado devi fare meno credi nel dado meno di aspetta e come faccio a farmi vedere tanto va bene ci fidiamo ci fidiamo ci fidiamo hai fatto uno l'unico 13 a posto più a posto c'è un palino tu dai un sorso al tuo vino pensi alla direzione che deve prendere la russa la vedi la fai la punta della russa che corre vedi sassetti vicino non sa già dove andrà russola russola ma perché la russa parla meglio ma perché tu c'è sempre una storia d'amore fra e posto esatto non è una storia d'amore la russa che è entrata in simbiosi con fra un palino ma non è una storia non è una russa va bene ma bravo palino tu adesso sei in simbiosi con la russa colpisce è come una forza che unisce tutte le cose ti compenetra ti attraverso una russola una russola una russola bellissimo lo scrivo aspetta che me la scrivo è una russola una russola incantata io però vorrei sapere nella vita reale Daniele Bossari a quanti tornei di russola ha partecipato a ibiza così a russola proprio ma in umbria io ho una sala in umbre a città di castello e lì è molto sentito questo sport per cui la mia casa si trova sopra una collina per cui proprio è in uno dei corsi cari vuol dire che chiudono è una roba ragazzi c'è le divise ci sono appena finisce sta situazione andiamo tutti insieme a giocare oppure come sigareggia fra contrade oppure una cosa tutti contro tutti benvenuti a giochi di strada studiare le varie tradizioni popolare dopo la morra friulana dove sono stati uccisi accoltellati 12 partecipanti e con noi daniele bossari che ci sta parlando della russola o chiamata anche russolona sport popolare italiano del tardo 800 gioco di strada della classe operaia si fa questa eronia su uno sport nazionale infatti esatto prima cosa seconda cosa in questo caso sono giustificato perché la mia è una citazione ben più antica perché risale all'epoca vedica con il chakra il chakra non il chakra ma il chakra ma quello texina texina quindi capito quello è un ultima domanda i monaci si ammazzano le russole poi torniamo a giocare ma la russola te la devi portare da casa ci sono ci sono le russole ufficiali che sono pesate hanno delle dimensioni giusto un appello se qualsiasi produttore di russole ci sta ascoltando ce ne facciamo una vendita arriva a nicola appunto dei gobbi schioce al games punto it perché a questo punto si potrebbe fare prossima luca comics in games anche un torneo di russola però mi dicevi raga posso dire che secondo me roberto riesce a spaccasse una gamba pure già nella russola fortesemente pericolosi eccoci povere nic games che fa il gioco di ruolo ufficiale della russola cheese games cheese games che sto prima ricordo della russola forse è stata la cosa più seria della serata ma stiamo ancora manca un'ora del gioco buona buona è probabilmente adde Dario no io non pago le murte c'è stata la finanza scusatemi c'è fra opalino che vedete che amici della finanza una russola sì quindi c'è adesso è il turno dopo rigoberto che ha distratto rigoberto tirami o di 12 per favore oddio bravo questa cosa che forte che sono diventato dopo tre anni sei grazie riccardo se sei gnome immediatamente vengono allontanati ce ne sono quattro sul letto quattro sopra sono andati via assieme ad altri due chiaramente rimasti di 16 se sono ancora 10 4 avanti a voi sei dell'elettro che so chiaramente quelli che sono a pippa russola perché non ho sentito l'attrazione chiameremo te gobys mi piace che cosa volete fare allora è già andato è già andato avanti e ricoperto e appi non ha scusatemi e ader non ha più incantesimi quindi agisce agisce dopo c'è volendo il dice se vuole usare la la fionda meno che non non decida di fare gli straordinari con con abacco chiaramente decido gli straordinari anzi mi lamento pure del fatto che stanno facendo casino mentre io sto cercando di fare questi inventari 20 molette d'oro come straordinari nicola nicola io gli rimetto nella tasca facendo una sciocchezza una sciocchezza ma cosa pari aspetta no no quanto hai di classe armatura io domanda difficile io ho due di classe armatura però se attaccati da avversari di taglia grande meno 2 cioè meno 0 17 perché in quanto sei così che fa il figo se c'è un dolore incredibile al fianco o no ti giri o no e a coseno sono girati il cazzo e si è ritratto il coppio no no questa cosa si è svolta veramente pochissima ti fa quattro punti ferita e che è un contatto quanto te li meriti lorenzo magalotti sarà costretto ad attaccare va bene va bene io guardo coseno e faccio cuoco e tu coseno sono io così non mi giro da questo lato perché immagino che sei da questo mio lato e io però scusa faccio cosa signor abbaco signor abbaco il qui ci occupiamo solo di contabilità e numeri per qualsiasi protesta di tipo legale chiamate mio fratello julio ma sto sanguinando e mi dispiace non ce l'abbiamo il reparto medico puoi chiedere a infortunio che c'è un po di impiccico le assicurazioni come te pare intanto ho fatto 20 monete d'oro non si può dire lo stesso anzi scusa 4 punti ferite abbaco gli dice che al massimo puoi andare a casa prima domani ma l'importante è che tieni il collo sempre come domani non oggi collo sempre coperto grazie io va bene è andata così prego i ragazzi scegliete testo io sono un fondo l'ho d'attacco a te ea del no voi siete voi siete con darmi a due mani quindi sia scusami sia texto che api che epi dopo quelli ci sono di abetus adolf e frau pari allora io scusa posso certo però allora io in teoria appunto sono riuscito al mio intento sono arrivato appunto dietro il mio quindi penso di stare vicino al letto giusto sì perfetto allora io ovviamente con molta fatica perché non sono riuscito a mangiare e quindi c'è sempre questo male di zuccheri che mi ammazza e uso un'ampolla d'olio che ho nel mio equipaggiamento e questa benzina e io mi do fuoco no però voglio dare fuoco al letto dove stanno tutti i signomi con l'olio è interessato aspetta aspetta vizio che sono tutti lì insomma cerco appunto io tranquillamente proprio anzi un po trascinando che mi tocca fare la mia età momento metal stappo questa ampollina la verso appunto allora se tu li dai fuoco per dove sei lì prendi danno anche tu devi andare indietro e lanciare tipo un accellino un qualcosa un tiro per colpire a distanza se invece lo fallisci non prende fuoco se c'è dai fuoco non ci sono problemi però prendi danni anche tu state la scelta sennò può usare il mio alito dal visto che ho bevuto l'alcol ammazza da distanza proprio così vuoi fare il lancia fiamme fra opalino per quello la russola incantata è il mio alzino si chiameremo frutto e attento ritorno di fiamma brutto de foco grazie riccardo grazie infatti era proprio da tenere a malvato salti indietro di a bettus con estrema calma e chi si avanti va più i ritori un po lì dietro esatto c'era un palino rotto di fuoco allucinante vedete questo è la stricolare si è creato è come se visse creato in 3d un drago di fuoco che si ammanta una roba disgustosa un odore allucinante per me alla stanza va a sbattere contro il letto a castello che prende fuoco ma come è arrivato dopo deve tornare indietro fra un palino fammi tiro salvezza su incantesimi no aspetta incantesimi 15 vedo vai tira devi fare più di 15 aspetta che faccio il tempo reale 18 ma donna oggi c'ha più culo che anni più quello che c'ha grazia un palino è abituato al sacro rutto divino come lo chiama lui bene si pulisce la bocca in tutti i sensi di vino e immediatamente dopo lo sfrigolio e l'urla delle ignomi che prendono fuoco e letale madre di dio tirami un di otto più quattro più sei su questi sono stato più sei mia cara di abetus un di otto scusa detto più di otto più quattro cinque più quattro nove vabbè sono esplosi un falò enorme inizia a bruciare i corpi di questi falò delle nani questi nomi e tra l'altro mi trovo un pochi attimi cadono a terra morti dietro sei che mancavano prendono e scappano terrorizzati ok io mentre vedo questa cosa mi giro verso fra opalino e dico ragazzo mio anch'io una volta avevo dei bruciori di stomaco ma insomma mi sa che sei messo proprio male dagli del dragox però per me guarda che fa parte sempre del mio ordine quindi è questo super potere sempre legato alla è il rotto divino il sacro ordine del domito alzato capisco che bella comunque dovremmo richiamare il nostro gruppo tipo natale a baldur's gate per cortesia vi chiedo di guardare la live di cyber partita i giocatori dalle emozioni si sono messi a piangere perché quello è il gioco di ruolo serio anche tu stai piangendo e che mi fanno pagare il mutuo quindi grazie infinite però purtroppo purtroppo ci sono tre volte in cui bisogna dare il culo è questo qua è il motivo per cui stai facendo percola il master se ne va e vaffanculo quante volte è successo mi ricordo dalla regia che ho un contratto e quindi bellissima giocata arbitro io non so però è denise la vedete perché con questa inquadratura con un attimo regia per favore può stare su denise la piccola quella piccola venise la nana bianca ma cos'è che volevi dirmi non ho capito che stai bene che stai bene metti il gomito metti il gomito il colso sul tavolo adesso le notizie basteranno dal dario sicchio è passato un'ora e cinque minuti infatti sei te che sta a perdere vedere la mappa che non sappiamo dove siamo adesso si spegne è un cazzo di circo con il letto in fiamma dovete buttarmi attraverso se volete passare perfetto non voglio possiamo anche aspettare se ne sono iti gli nomi stanno presso alla tuzzola ma come cazzo parlate no scusate ci abbiamo due porte volando possiamo tornare indietro non dobbiamo passare attraverso le fiamme c'era la stanza quella con la guida si esatto andiamo anche una porta dall'altra parte davanti a voi dalla porta alle fiamme in mezzo alle fiamme vedete che c'è il corridoio e oltre ad andare a proseguire dritto c'è anche una parte dopo in circa un metro e mezzo che svolta a sinistra la porta a cui siete dati voi è appunto sulla sinistra e c'era un piccolo corridoio con un'altra stanza potete immaginare che questo corridoio è andando dall'altra parte ci sia una stanza che collega le due parti arbitro io c'ho la mappa e non ci ho capito un cazzo scusami la stanza che siete voi è tre quadretti per tre quadretti c'è un corridoio di cinque quadretti verso verso est verso destra dopo due quadretti vedi che c'è un piccolo corridoietto fai un quadretto verso l'alto che va verso su da dove siete arrivati voi c'era anche un piccolo corridoio che andava verso destra tu che stai facendo una mappa stai vedendo che si possono intersecare quindi nel mezzo puoi capire che tu che stai facendo una mappa c'è una stanza ho fatto più o meno quindi se non volete andare dritti da dove siete arrivati adesso scusatemi da dove stanno andando a fuoco adesso a letto potete uscire e prendere l'altra stanza facciamo contento a del fan a destra perchè a mali estremi arbitro scusa io che sto ancora lì attacco io voglio prendere una moneta d'oro che ho guadagnato col sudore delle mie meningi e fiondarlo con la mia fonda nell'occhio a coseno ce l'ho vicino quindi sta attaccando però sta attaccando mi passate in cazzo sta attaccando ha trattato un loophole terribile attaccare i suoi vado tiro eh vai ho fatto molto basso però ci sto tipo appicc cioè è tipo così capito che vuol dire ho fatto molto basso ma ci sono ho fatto la mossa X come hai fatto? sei sei più uno perchè c'è il bonus perchè sei vicino no io ho fatto tre col dado e tre con quello quindi sette ok si scusa si praticamente è barato no no modificatore non è per colpire però Abaco alza lo sguardo lo stai lanciando via i soldi o no allora Abaco Abaco alza la mano e fa io ammiro il tuo spirito di iniziativa imprenditoriale ma cosa ti ho insegnato? prendo un sassetto lo metto nella nella coca mi prendo la moneta e faccio questo è perchè ti devo insegnare e me lo riprendo ok mi tolgo una moneta d'oro quindi non ha attaccato comunque però io gli ho dato un sassetto e poi fa come gli va quindi lo prendo oppure no non lo prendi e allora hai un cartonato in faccia e dico rivolgiati sindacato cozzine sì gli ho storpiato il nome oh no adesso abbiamo un cartonato lasciamolo nell'imbarazzo aperto dell'imbarazzo tanto imbarazzo si può lasciare qui nell'imbarazzo sì sì io penso voi siete già andati via grazie c'è una scena bruttissima che si spogge nella solitudine sì sì ma a voi ciao cavabba ciao carissimo tomate una porta davanti a voi molto simile a una porta da cui siete fuoriusciti è la porta appunto che dà sull'altra stanza che cosa fate? la porta è chiusa io non mi avvicino più alle porte a me mi ha detto tra mio amico di non andarci più alla porta vai Eppi busso che sono un nano educato ecco tu bussi tu bussa non senti nessun rumore ragazzi è libero a posto un bagno se qualcuno vuole aprire è libero no Eppi no no avrò io tu la apri ti è contento molto piano molto no vedi che è una stanza grande quattro quadretti in profondità e tre metri d'altezza cioè quattro metri lunga alta tre metri con un soffitto alto due metri e mezzo fatta con grossi blocchi di pietra è abbastanza umida ti rendi conto che ci sono molti secchi per terra dei secchi d'acqua e ci sono delle ceste e ci sono delle ceste con del pesce fresco ti sembra che ci siano dei rametti che stanno come entrando nei vari pertugi dei pesci sono come se fossero bimbi questi rami sono abbastanza piccoli poi c'è uno spruzzino di ferro appeso a un gancio e intorno ci sono dei piccoli secchi con un odore acre vedi che è un liquido un po' appiccicoso non capisci bene che cosa c'è al momento non ci sono nessun tipo di gnomo vedi con la coda dell'occhio che c'è un corridoio che porta a sud e poco distante vedi che ci sono delle fiamme quindi capisci c'è lo stesso corridoio che si collega alla stanza che siete andati via prima e c'è anche il corridoio che prosegue dopo lungo non vedi gnomi qua non ciò capito niente ok allora la stanza è lunga 4 quadri regia regia dammila 3 sulla mappa no la mappa se riuscire così Nicola perfetto perfetto dacca la porticina lì fai una stanza di 4 metri 3 sì 4 metri 4 quadretti per 3 con un quadretto sotto che è dove si collega va benissimo va benissimo così così esatto ok qui si collega di così è chiusa poi? no sì è chiusa quella sotto va è chiusa chiusa chiudi esatto lì è dove siete usciti fai un piccolo no no è giusto è giusto è giusto che proseguisse giù di lì ok ok fai un quadretto giù di lì e poi è un lungo corridoio che va verso destra una curva gomito lungo corridoio facciamo che va verso l'alto va verso l'alto perché non ci stiamo qua nella mappa quindi fai un corridoio lungo verso l'alto che supera la stanza che hai fatto adesso strano sì sarebbe dritto però non si riesce a fare dritto quindi fallo così che se non esci usiamo la parte sopra questi cazzi va bene ok andrei sopra sopra l'altra stanza è diventato Pac e non ci sono altre porte qui no qua no io non ho capito che ci ha appeso sul soffitto uno spruzzino in che senso uno spruzzo come è non saprei come dirti quanti incendio se è caldo se vuoi umidificare le cose ah ok un nebulizzatore come per te nel pesce fresco poi c'è del pesce fresco del pesce secco nel pesce fresco dentro queste specie di cesti ci sono questi piccoli rami che stanno entrando nei pertugi dei pesci ma cosa vuol dire nei pertugi dei pesci c'è presente la casa coi rami? non quale ma per i pesci è un entai ittico ecco è un entai e l'ha detto ha capito hai visto? apposta ma stava a dirlo parla italiano anche con più caldo frau palinen frau palinen vai pure tu avanti in stanza sembra che tu sia esperto in portare tuoi amici in stanza accoglienti no? e ti guardo malissimo sono piacato Adelf sono delle frecciate inizio io entro volontieri ma e chi vede qualcosa quindi è illuminata cioè io perché non vedo di notte quindi comunque vedo quello che hai descritto lo sto vedendo giusto? è illuminato si è illuminato ci sono delle torce in cera è illuminato non c'è nessuno intendo di questa stanza e allora sono incuriosito da sti pesci vado lì buone idea toccali con attenzione sfruguglia il loro vincere un tipico tedesco vado a vedere mi sembra essere anche se Junior tu vai vicino il pesce il pesce è morto c'è un pesce che è stato pescato fresco probabilmente in giornata l'occhio è quello cioè va bene in giornata è fresco si si è fresco si è fresco e vedi che ti sembra quasi che che provengano delle voci del ramo non le capisci sono flebili ma è sono voci c'è quasi di quasi dei grugniti che piace fare le voci una roba brutta cioè tu capisci che qualcosa di maligno questo ramo ah lo sento che c'è qualcosa di male si si senti che c'è qualcosa che non va in questo ramo qua mi allontano e niente e osservo la scena un attimo ancora estere fatto da questo fenomeno paranormale io non lo so non riesco a capire che creatura sia è una creatura capisci che probabilmente è un appendice o qualcosa un rametto di una creatura legnosa estremamente potente intrinso della sua della sua malvagità ancora stupida quercia questo sì io Nicola io entro perché nonostante la scena sia lugubre in realtà Rigoberto è in sollucro ma guardate che questo è perfetto è ready made cioè nel senso questo fa molto maghi voci del tai dove ti metti Rigoberto dicendo questa cosa mi metto l'unica cosa è questa questa parte neo industriale vedo sotto il nebulizzatore inizio a picchiettarlo col bastone perché non mi piace perché dovrebbe essere tutto un po' più segreta invece sta cosa di positivismo novecentesco mezzo che me a lucca portiamo oggi il positivismo novecentesco è un po' una pacchianata che poi facciamo di vita a tutti che la costa della spada è la gaeta del fevum mi spieghi esattamente come sei ubicato all'interno della stanza sono al centro della stanza esattamente sotto allo spruzzino come l'hai chiamato tu e col bastone sto dando delle botte a sto spruzzino per farlo cadere perché non mi piace è evidente è evidente che sto facendo una stupita a salvezza controbeleno immediatamente ok devo andare sotto sopra 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 ti prego due è quasi sopra è quasi sopra è veramente disgustoso e non riesco veramente capire è stuzzico è stuzzico esatto è stuzzico lo è stuzzica stuzzica è maturato vedi che stuzzica lei stuzzica anche vedete che lo spruzzino ti rende enorme spruzzata di questo veleno questa nebula verde che ti avvolge però non ci avete per la roba verde prima era dentro lo spruzzino pensavo spruzzassero spruzzino già prima ok intanto incazzare va bene Nicola sei tra amici ecco dammi la forza no dammi lo spruzzino fai un tiro su forza ha detto non hai fatto non hai fatto un tiro su veleno un'enorme nebbia avvolge no corredo no come si chiama gioco volerto guarda quasi poi arriva corvetto gioia corvetto morino a respirare inizi letteralmente ad appassire alt e come il corpo fosse fatto di legno e in pochi attimi cade al suolo come uno stecco corpo morto cade un corpo in cui tutti i liquidi sono evaporati e ciao ciao rigoberto però c'era la mascherina esatto volevo dire che prima di accasciarmi mi metto la mia mascherina per evitare di infettare i miei compagni bello bravo bel messaggio bel messaggio visto che facciamo anche pubblicità progresso signori quindi è mancato un altro vostro compagno ma c'è già sta qua che paura ma sta sempre qua dietro è chiaro che è tutto piano suo no è chiaro che sta diventa chiaramente il corpo di sark megano andare a chiamare un altro membro della quartiere e quartieri avete otto parole e non ci abbiamo la mappa davanti vabbè sinistra deve farlo il giocatore che ha perso il personaggio metteteci la mappa però grazie grazie io prego deve entrare un altro della quartiere e quartieri e gli devi dare le istruzioni quante parole otto otto ok è facilissimo è lì chiama abaco sul cellulare un altro male non vale perché mi avvalzo la prima volta è appunto allora ormai hai giocato o il jolly non chiamarmi mai più per favore per le prossime luca a bugiarmi in fondo in dritto ok grazie allora ce le lasciate la mappa da lì ok allora sinistra in fondo in fondo sono aspetta sinistra fondo destra perché in fondo è perché deve girare dove il tappeto deve girare a destra no ma in fondo non serve ok sinistra tappeto destra ok no aspetta non gli diciamo tappeto che potrebbe toccarlo il tappeto è la prima a destra è la prima a destra sinistra destra ma il tappeto non lo vede è coperto di merda perfetto ok allora facciamo sinistra merda destra dritto cazzo dritto dritto cazzo seconda porta dal basso vaffanculo fuori chiama abaco chiama abaco con la voce cioè arrivato lì fai abaco e urli abaco esatto strilla forte strilla forte e poi chiedi poi chiedi no queste qua prima va bene ok nel senso sinistra destra dritto scusate ma c'è qualche minaccia c'è l'ogre non deve entrare dal logre no noi noi pettornale c'è qualche minaccia quanto ci metteremo mezz'ora mandamola a PA sai che è quasi quasi ci sono i nostri erranti ah che sbagliano andiamo coseno ma andiamo coseno ma andiamo coseno sinistra ma andiamo coseno destra dritto seconda porta dal basso dritto così master a posto grazie 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 la scendiamo la scendiamo è la giusta che volevamo dire noi l'abbiamo accesa come si fa stressare il master la seconda porta dal basso cosa vuol dire in realtà sarebbe la seconda porta che incontri si ma la mappa noi vediamo la mappa del bel dire destra e sinistra noi vediamo la mappa dall'alto quello che volevo arriva per far notare che seconda porta dal basso come l'altra volta due porte seconda porta dal basso non ha capito amico no vabbè ok lascia a fare va bene seconda porta da destra volevo dire gli spettatori che il gioco di ruolo è meglio di così o anche peggio è come così è quando si fa il cazzone con gli amici e quello che stiamo facendo noi perché io mi sto divertendo vi sto odiando lo so il mio cane tra un poco cioè mi dice che cazzo fai scusate con il cibo facendo queste cose però è veramente divertente però io c'ho una teoria su cosa secondo me dobbiamo uccidere il pappagallo ma fatti al proprio sono convinto che il boss abbiamo provato ogni volta ci mandano la cercate uccidereci tutti ma poi lui ingrassa sta chiaramente quello si fa oddio di male quello sicuro però ci mandano in materiale forse prima magari adesso ho preso corpo da nostra vita meno male che la teoria questa non era una teoria razziale mi ha spaventato devo dire per un attimo io ho una teoria o no vabbè dai muoviamoci 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 beh è arrivato come quello nuovo come si chiama il forturio pronti capocattiere oh 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 voi si ride ah ma tutta è perché prima ah regà ve lo dico subito stumiti te in casino se ne va più a muffa qui ma che stiamo a scherzare io ci riportavo per ai miei a qua dentro questi mi fanno vertenza immediatamente signor infortunio il suo fratello mi ha detto che lei è in contatto con dei sindacati che potrebbero aiutarmi per questo problema che ho qua non guardi il microfono c'è stavano delle torce vero oh no lo cauterizzo oh vallastighi ricorda la mente tanto che mi ricordo questo cuore di più no boh io e lei andremo con un concordo che infortunio se sono fosse stato un libro eh l'infortunio fammi un tiro per colpire lo sapete vero non finiremo perché è un uomo dai modi sficci infortunio 11 quindi 8 mi farà talleggiata non lo prendi non lo prendi non lo prende signor infortunio prenda bene la mira però così non mi fa niente guarda no ci ho ripensato caro fallo tu perché poi niente niente mi chiama il sindacato mi fa uh ma hai di nuovo toccato l'operai tua che io io dì era motivante però quella è un'altra storia tieni fai tu va bene lo appoggi conti fino a 12 bicchiere e poi lo togli appia fuoco io lo voglio fare ma prima lo faccio sulla mia spada e me lo faccio con la spada mi piace dimostrare iniziativa il ragazzo io ho fatto modo che non ti colpisse per evitare di toglierti i punti feriti ma è chiaro che sappia quello che fa io mi fido del signore infortunio perché mi fido della Gualtieri e Gualtieri perfetto e gli ha dato un lavoro tu ti fai da solo questa cosa tutto serio per curiosità e lì c'è quanti punti ferita hai sei una voglia a calderizzare io ne calderizzerei quanti anni fa la tua spada ma mica se la pianta nel pezzo infatti no col piatto della lama il piatto scaldato della lama un di sei è una spada corta io c'ho scritto mazza ma mi piace più avere la spada decideranno i dati tira un di sei ecco sto sorridendo che c'è sei sei oh no cioè non ti fermi prima beh ora no beh ora non fa più male no non fa più male non fa più male nulla è un altro doppio guarda non c'è niente bisogno che ti descrivo come muoio perché l'ho appena fatto ma non era nigni fu chi l'harfling no 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 oh corbezzoli ma sono di nuovo qua ammazzato incredibile ammazzate il pappagallo vai adolf vai adolf attaccato il fattato adolf il tuo momento attacco il pappagallo ecco puoi davvero attaccarmi schifoso il suo elfo ha detto schifoso è pure il tuo elfo si 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 il tuo rischio è pericolo ecco il rischio è mia bevanda preferita pericolo mio primo piatto preferito sono la shop già pensavo al secondo no ma la mia bevanda beh fai un tiro per colpire rischio senza raschio col fischio fatto dieci comunque ti ho dato i mila di zellati scusa che c'ho la scheda chiusa 10 più 2 è un più 2 è un più 2 si quindi 12 non lo colpisci vai per colpirlo 7 vai per colpirlo non lo prendi vai per colpirlo nell'esatto momento in cui la tua lama colpisce il pappagallo è in corporeo ok rimane in corporeo ma senti una terribile energia entrarti dentro bene come la voglia di fare del bene a me un tiro salvezza contro morte e la madonna che infame mica il 45 devo stare sotto no? no sopra 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 vaffanculo quant'è? 14 lo story teller di questa luce eccolo qui la tua morte mi fa stupido pen newton ha fatto quattordici quattordici 12 12 assidio effettivamente questo questo pappagallo è uno strumento utilizzato dal dunque di Brackenbond per far sì di accompagnare gli altri membri della compagnia quindi non è una qualcosa di malvagio è un artefatto magico estremamente potente quindi cercare di interferire con la sua creazione può causare effettivamente una morte dolorosa e terribile specialmente se non è con azio di merda ma in questo giro qua però domanda seconde di Ivan Gatzen ha artefatto magico capace di uccidere a solo tocco perché non usa per sterminare nemici che ha mandato a sterminare a noi io vorrei dar torta a questo signore noi lo facciamo per sport e loro entrano uno alla porta e uno di voi ha degli interessi personali anche per quello è vero a me mi hanno appena fatto l'impedeziometria vabbè dai va bene torniamo a giocare seriamente torniamo torniamo a testa giorni guardate il massimo ora anche ragazzi dopo anche la morte del povero Rigoberto che non so perché ho anche specificato che era appesa a un gancio però l'ha voluto tintinnare lo stesso vi trovate in questa stanza è abbastanza tranquilla quindi se volete potete rinfucillarvi un attimino medicarvi le ferite morire male ma scusa c'è ancora i pesci con gli stecchi con questi stecchini sì più che altro Trillice ha raggiunto i suoi nuovi compagni di viaggio Trillice eh beh sì si è arrivato in fortuna no io mi avvicino a Trillice e gli tiro uno schiaffo per no no aspetta aspetta sai che devo equilibrare tutto come monito per darsi una svegliata nei confronti del resto del gruppo perché è vero il discorso che non ha mai attaccato quindi è arrivato di che sta parlando non la conosco signore non dovrebbe essere un modo di bontà c'è ragione no ma è il modo c'è tipo padre Pio dava ogni tanto ste mazzate cioè nel senso è capito è un oh dai ci siamo siamo sono appena arrivati io vedendo questa cosa mi unisco e do un altro ceffone proprio sul coppino sei punti ferita no senza far male allora dai per far male dai eh venga le cortesia non vendiamo le maestranze è proprio la tua divinità la divinità che che adora abbeverarsi dal sacro calice che guida il tuo braccio tanto che dopo che hai dato questo scapellotto rinvigorente a illice no trillice trillice ormai sono trillice è tipo campanistino però a trillice noti che il tuo calice sta vibrando ce l'hai chiamata ce l'hai chiamata ce l'hai chiamata c'è il silenzioso certo v 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 arbitro arbitro ma come fa piatto il calice qua sotto poi scusa guarda che se piacere abbo se ne hai detto calici spenti però dentro il dungeon vabbè facciamo più anticlimatica adesso non rimaniamo qua tutto il resto della cava della vittura così dovrebbe essere il boss ma io non ho capito una cosa dagli stativi Daniele parla con la ruzzola e c'è un calice che vibra giusto sì parentesi ecco secondo ad elfo mi hai dato un'ottima idea mentre il calice la famosa dà un'idea di vorrei comunque informare tutti che da oggi è attivo il gruppo salviamo il gdr da roberta che ho detto io questo però improvvisamente le ore e mezzanotte e 02 non puoi dai cerco di fuoco dunque dicevi adesso faccio veramente spacco tutto noi qua stiamo c'era la vibrazione la vibrazione del calice la vibrazione del calice quando vai a toccare la vibrazione del calice c'è qualcos'altro che vibra tu vedi da un punto di vista alto una cosa rotonda che rotola è l'ostia è l'ostia della miseria è l'ostia sì è da inzuppare nel vino è tipo cantuccio e vincanto è la ruzzola ecco certo che è tipo un'ostia capito gigante infatti l'Umbria entrando così in sintonia con te fra o palino è diventato un'ostia ok io ti giuro adesso tu vedi questa scena qua esattamente quella che avevi visto quella che è il tuo fratello forca puttana vi uccido tutti adesso se lo svegliete è che ho già fatto è che ho già fatto è che ho già fatto questa ostia o la che rotola fra o palino è diventata pia ecco diventa da lì vedi se in sintonia con la ruzzola questa come una specie di baccanale ci sono molti gnomi che ballano ho sentito c'è una donna bellissima vestita di bianco che balla nel mezzo e vedi che ha un abito immacolato davanti a lei c'è quella che sembra essere un enorme ceppo parecchio grande quasi due metri di diametro alto un metro e mezzo e ha una faccia deforme con questi rami che ballano che stanno avvinghiando questa donna e ai suoi due dati ci sono due gnomi la gnoma con un ceppo tatuato sulla fronte e un nano con un ceppo tatuato sul bordo che tengono tutti e due in mano quello che sembra essere una specie di coltello sacrificale si vede proprio che è sacrificale cioè nel senso beh sì perché sarà ornato tipo di agnello lì no no è al posto del manico ha quello che sembra essere un ceppo e ha una forma particolare e vicino al ceppo buttata di lato c'è quella che ti sembra essere un'armatura totalmente dovrebbe essere bianca un tempo sembra anche di ottima fattura però è lanciata nell'angolo sopra il ceppo c'è un calice splendidamente adornato è bellissimo e da questo calice esce quello che sembra essere un flusso continuo di un'acqua che solo l'immagine ti deterge ti verrà più da annapparti la bocca che sta come rinvigorendo questo ceppo e stanno tutti danzando in onore di questo ceppo qua che sta a queste enormi radici che da una parte stanno avviluppando questa donna dall'altra stanno come risucchiando energia da su dopodiché la ruzzola l'osteo la ruzzola per terra e tu ritorni in questa stanza appena dato lo scapellotto a trifice e ritorni e ha smesso il vibrale anche il calice per gli sfx del viaggio tappa e allora prima cosa descrivo quello che ho appena visto ai miei compagni ma Trillice non reagisce allo scopimento prega cazzo io non sento niente dalla visione zero però questo è tipico dei GDR sono corralmente quindi se mi reagisce devo reagire a lui altrimenti comunque è chiaro che racconto per filo e per segno quello che mi hai detto è la serendipità Fraubalino guarda più di perplessità da parte di uno che appena è arrivato si becca uno scapellotto da uno molto più grande di lui io veramente non so che come gli altri ma il monito l'hai capito no perché non c'è stata una spiegazione posso dare un monito anch'io posso fare una domanda ma sul monito c'è il texto posso dare un monito scusate dove è mio fratello invece io voglio sapere cosa ne pensate perché so che ci sono indizi che riguardano la vita di ognuno di noi nella visione che ho appena avuto mettiamo insieme un attimo le cose no sono serio è palese è palese infatti io ho saputo questa cosa riguardo al un sacro calice per alleviare tutti i mali e io so che appunto è qua dentro quindi quando tu racconti che hai visto questo calice qua insomma ti dico riconosci sì 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 ti dico ah sì sì ma sai che frate questa cosa mi mi suona ecco non proprio non proprio nuova ecco forse potrebbe essere che insomma lava ecco la mia associazione è qua anche per questo interessante ma ha visto anche dove si trova come arrivare perché insomma un'altra domanda ce l'ha una mentina ho di nuovo un terribile cano di zuccheri almeno una mentina no pensavo per il dragone di prima è quello che sei tu che hai ruttato infatti è per quello che l'ho chiesto a lei secondo me la di ventina ne ha no non ce l'ho però io non ho capito esattamente dove si trovi insomma la scena che ho visto tu ti ricordi che la russola era andata dritta per il corridoio allora seguiamo la russola c'è un'armatura mi hai detto c'è un'armatura tu devi già tornare indietro stando alla mappa giusto sì dobbiamo fare c'è il corridoio sotto io rispetto a quello che alla visione invece a infortunio gli interessa prima insomma mi hai detto che ci stavano tutti questi rami che sembravano entrare nel terreno e assorbirne quasi dell'energia ecco sembra un'escavatrice da paura quindi se fosse possibile io la reclumerei per me e per i miei e poi la seconda cosa mi hai parlato di una dama bianca bellissima ma è a donna di qualcuno per caso no perché io mi sono appena lasciato coccatia stavo giusto cercando mette da meno sguardo in giro mi hanno di certo visto il mio voto io non mi ero accorto che c'era un nano perché è troppo facile oddio mi scusi fraccoppino ma c'era era coinvolta anche una bambina halfling una dolce bambina halfling leggiadra come delle impronte sulla neve c'era anche lei nella sua visione no no però no lei non l'ho vista peccato ricordo è che avevo proprio pronto qui e prendo un pesce da un barile di un pesce fuor d'acqua per la nostra zuppa per stasera poi dopo che dici questa cosa qua e riguardo a tua sorella metatarsa che tu sei esattamente dov'è io poiché si stanno in logro vorrei ricordarti sentite e sono appena arrivato è vero scuotrilli c'è i tuoi fratelli morti in maniera assurda avevate avvelenato l'acqua dell'ogre sì io sa sentite come un è il terreno che tremolò è passato le trenti più di tempo probabilmente l'obre è andato a rifucillarsi con la zuppa avvelenata e adesso è stramazzata al suono è stato Ennano no è stato stato io io direi di andare a vedere è stato Ennano andiamo a vedere magari c'è qualcosa di interessante magari luce una porta un passaggio segreto andiamo là Ennano che c'è la donna è stato ammazzato almeno un parente buonanima tu parli con l'irruenza della gioventù no io parlo con l'irruenza di mazzinei soprattutto che bella cosa la gioventù abbiamo perso tre personaggi dentro quella stanza e ci volete ritornare è morto è morto e ho capito e lascialo lì infine ma magari c'è qualcosa magari c'è una forza è una porta se non sbaglio ma come avete ammazzato il calice il calice però non è lì non è lì dobbiamo seguire la rucola non c'era quella l'allaccia appesa che urlava vabbè ma rega non si ammassano logri quelli montano le imparcature in dieci minuti massimo c'è una risorsa cosa volete fare io ci provo io voto per andare a seguire la russola si anch'io seguiamo la russola ma c'era quella nana in gabbia che urlava vabbè io invece voglio sapere perché la ragazza ternana non sta qua dentro ma non è la mia ragazza è la mia protetta e le tue sozze moni non la devono toccare ma io pure c'ho avuto un sacco di protette ma non ti preoccupavo ma quando lavoravo sui cantieri sul mare ma che stiamo a scherzare il patio il patio si il patio sta a voi ragazzuoli vabbè seguiamo la russola via seguiamo quella simpatica prego informo il povero drillice che forse lì c'è un suo parente dove stava logri mio parente l'avete visto è un afling l'avete visto un afling infatti però dicevo prima io c'è quella cosa si chiamava fratello fratello drillice c'era un afling dove si trova l'ogra e chi chiamava fratello fratello un tuo fratello e se i calcoli sono giusti dice per la proprietà transitiva dei fratelli ma quindi la mia dolce sorellina metatarsia è qui è qui nel dungeon ma mi aspettavo a casa e ora come farò a gustare la mia zuppa portagnene si piega un cazzo non sei Riccardo Torti non sei sei happy puoi sempre portargli la tua se l'ogra è morto la stanza te la finalmente libera ti accompagno stiamo splittando il party è la cosa che potrebbe far arrabbiare di più Nicola non si splitta il party c'è proprio una regola mi raccomando non focussate a un'ora dalla fine della campagna stava splitta il party vabbè andiamo andiamo a vedere chi dice vuoi ricongiungerti a tua sorella sì o no sarebbe la cosa più bella per me e allora andiamo quant'anni c'ha tu sorella sono 10 metri beh ho detto gli anni no i metri mentre andiamo ci incamminiamo spiego mia sorella è molto molto piccola molto piccola si fa nippenale si fa nippenale 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 tornate tornate indietro sì sì e trovate la porta dell'ogre chiusa beh io la indico a Trillice indietro non so se un piccolo ditino del piede come me potrebbe riuscire ad aprire quella ma guarda guarda non ti preoccupare busso non sei Riccardo ma nessuno che mi accompagna posso sono qui dietro di te sai cosa sai cosa caro ragazzo credo che se il caso di risolvere la situazione molto velocemente io ci tengo che si ricongiunga alle famiglie spalanco la porta e spingo dentro il giovane non è che la chiudo la lascio aperta la lascio aperta perché so che porta sfortuna poi dopo chiudo le porte da qui gli altri ah visto ci ha pensato Pacciani non sai che ti dico Pacciani e l'altra famiglia di guerrieri forse ci sono ancora dei biscotti da quelle parti quando entri fammi subito un tiro salvezza su costituzione e la madonna oddio devo fare pure io un tiro salvezza un tiro su costituzione stanno pondulo e mellino e poi ok su costituzione devo fare sotto ho fatto sotto ho fatto 7 su 12 dici un articolo della costituzione adesso Lorenzo Fantoni giornalista bravo bravo quello che vedi davanti a te ti sconvolge oh no innanzitutto vedi un uomo inginocchiato ancora lì bravo 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 quello che sembra essere un braccio totalmente rinsecchito che sta piangendo su dei resti ancora l'avrà bagnato di lacrime eh guarda l'amore è vero fa bisogno di processare è un pianto silenzioso vedi subito una sacca che riconosci subito essere quella di tuo fratello totalmente intrisa di sangue e interiora tutto intorno mazza un enorme purulento ogre è per terra e vedi che c'è come un miasma che esce dalla sua pelle ora bestia intorno ci sono delle delle gabbie e in fondo vedi che c'è tua sorella appesa a una gabbia oh metatarsia ma sei volata fin lassù con le tue leggiade reali ma no chiudiamo la porta tu guarda l'avino scusate ma perché tu te resta è proprio sotto l'enorme ogre che cosa fai? metatarsia sta sotto l'enorme ogre? sopra no è sopra è morto è morto a suolo ha una catena con delle chiavi che prende adesso in maniera abbastanza semplice però ti ripeto c'è del miasma che esce dalla ok allora io che comunque sopra a circa due metri e mezzo c'è questa gabbia che pendola ok allora io voglio assolutamente liberare metatarsia però sono piccolino comunque con la pertica da un metro e mezzo ricordiamo perché io sono basso non posso permettermi di impugnare quella da tre metri quindi me la sono fatta fare personalizzata vado a tocco mettendomi una mano sul volto cerco la mascherina la mascherina ce l'ho già vado con la mascherina e vado a punzecchiare le chiavi per vedere se riesco a a sfilardile dal corpo abbastanza con un po' difficoltà riesce a sfilardile ok la pertica si è fusa tipo si è corrosa ok perfetto allora visto che noi fettavillosa abbiamo i piedi più pelosi e coriacei di tutta la contea troppi dettagli grazie io salgo sull'ogre solo toccandolo coi piedi in modo tale che io sono protetto da qualsiasi cosa lui emani e con la pertica passo le chiavi a metatarsia ah tu sali sopra l'ogre si con i miei piedi super coriacei perfetto tirami un diotto che bello quando il master ripete quello che fai ah fai questo è sempre un consegno comunque 4 4 la peluria che è sui piedi si ti prego dimmi che diventa l'erba della stagione 2 inizia a crescere si ricopre i primi colpacci gli stinchi leggi ma c'è che era mutato il petto e questa folta pelliccia ti spunto ovunque su tutta la pelle è diventato il cugino il cazzo di okshire in questo momento noi la vediamo questa cosa o è all'olana dai nostri occhi e io sono entrato non so se la porta è ancora aperta si era aperta si vedete che mi sa io rientravo c'è questo miasma che esce da logre e quando lui sale intanto riesci a passare le chiave a metatarsia diventa totalmente peloso oh ragazzi è entrato nella pubertà ma si è il top ma si è il top sei o mo sei metatarsia apre e ti salta addosso sulle braccia oh metatarsia ciao tu quando cadi senti un rumore probabilmente esce un miasma ancora più potente da logre tirami un altro di otto per fuori due una mano di metatarsia mentre ti sta accarezzando ecco avvizzisce e cade no è da tarsia ma che cazzo oh mio dio è logre è logre è logre sono su logre mutato sì sì non lo so lo so sono mutato che a sto miasma da queste pustole schifose che fuoriesco presto andiamocene da qui e faccio un salto col moncherino certo noi queste mani stiamo proprio stavate dicendo qualcosa sì sì volevo provare a darti una mano in realtà ok no no ma fallo fare no 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 nel senso Nicola scusa perché non avendo il manuale perché sennò avrebbe fatto la differenza sarebbe stato determinante no dicevo infortunio come incantesimo suo c'ha protezione dal male altrimenti detto antinfortunistica ma protezione dal mare lo posso conferire a qualcun altro te lo dico subito conferire come sei mi pare un po' tardi eh vabbè ma è la contemporanea nel teatro della mente no tutto accade contemporaneamente il teatro contemporaneamente no l'utilizzatore solo su di te l'incantesimo protegge l'utilizzatore dagli attacchi di creatura appartenente a un altro lineamento come segue più uniti di salvezza meno uno contro che si sta attaccando oh no allora fatelo comunque su di te in modo da dimostrargli quanto è stato coglione a salire il coppino mandarsi il saggio guarda che è chiaro che frau palino vuole educarlo guarda qua ci butto dentro il pesce che avevo preso donna mestolata prendi prendi starei meglio a metà tarsia oh no oh no metà tarsia beve con gusto con l'enorme gusto che che buono fratello che si occupa metà tarsia si appuffa e proprio lecca ancora un po' c'è con la mano anzi con il monterino che schifo oh come è bello vederti mangiare metà tarsia ho già visto a stagione io sono entrato comunque con lui eh già de betus era entrato con lui perché voleva raccattare gli ultimi biscotti biscotti ok io sto io sto la porta come il meme quello che fa siamo io e il nano così guardiamo sta scena no appunto visto che sono là dentro e sto guardando mi stavo avvicinando verso la vino perché comunque è l'ostaggista insomma del del lava esatto è l'orfanostaggista del lava mi fermo cioè nel senso vedo quello che sta succedendo e faccio ragazzo quella zu sì non è la zuppa più buona che tu abbiamo mangiato tanto c'è mezza tarsa che si sta sfondando di cibo io non la farei bere guarda che ha un piano guarda che occhi che c'ha guarda che ciasse va bene visto che ormai il più è fatto mi rivolgo al lavino perché appunto insomma è ancora lì e mi avvicino e voglio parlare con il lavino io pure che sta ancora mi permetto una cosa scusatemi vorrei capire se la mia stanza della mente è corretta probabilmente no e lo sei da 47 una carcassa di un ogre mutante che appena si avvicina crea mutazioni questo è diventato un e-walk la sorella gli è caduta una mano e sta mangiando una zuppa dei cadaveri tutto sta rivolgendo il tuo schiavo che è poi poi è una brutta parola è un pedente deformato in questa stanza piena di cadaveri e io non dovrei chiudere la porta e scordammete voi aspetta sulla porta ci siamo io eppi che li guardiamo così io stavo pure per io vabbè no io ho il povero lavino voglio portarlo via ma io pure voglio portarlo via lavino perché ho un'idea per lavino ecco adesso vede un altro membro della lava e quindi c'è lavaino esatto lavino lo so avevi un rapporto speciale con cataratta intanto continuo a mangiare i biscotti che raccolgo da terra e sono pieni di cataratta che schifo no vabbè ce l'aveva nella mano quella che aveva offerto insomma verso i suoi fu compagni e gli faccio ma quello che puoi fare è insomma continuare come cataratta avrebbe voluto che tu continuassi quindi insomma assistendomi perché sai insomma con i miei cari di zuccheri i dungeon sono sono un po' pericolosi quindi sì allora facciamo un ultimo saluto alla povera povera cataratta e vieni con me e te li ha posso dare un bivio morale alla vino posso dare un bivio morale alla vino lei gli ha proposto una cosa io mi avvicino alla vino e strattonandogli un po' il braccio marcivo faccio tu con questo hai svoltato qui gli fai vertenza te ce compri le case ma vai su parli con Julius in 5 minuti te ce fai a sto sciombeco gli fai ha svoltato amico mio e cos'è una station wagon è una carrozza si guarda si guarda il braccio tutto atrofizzato e annoisce con la testa cioè effettivamente ma come annoisce sono sordi tiri contrapposti di carisma sì insomma questo la vino l'abbiamo tirato su tutti noi del lava l'abbiamo nutrito l'abbiamo amato l'abbiamo vestito l'abbiamo mandato in day dungeon c'è una farsi del male secondo me insomma un po' più fedele a quello che gli dice diabetus le case la vi le case spu 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 vedi che però nel suo cuore c'è cataratta e vi rivede la stessa vecchiaccia magliarda nelle pieghe dei maffi di diabetus quindi è più tendente a simbore di diabetus in tutto ciò trillice tu hai tua sorella che è debole immagino sulle spalle stanno mangiando sulla matta stanno mangiando la zuppa non è ha mangiato la cieli sulle spalle senti che è un po' un peso morto letteralmente sembra molto fa molto una tomba per le luciole ho anche un piccolo di morto se noi possiamo muoverla in giro voi voi vi rendete conto effettivamente che metatarsia è morta ma dai io me ne rendo conto no ma sei dietro di te non me lo sarei mai aspettato metatarsia andiamo a casa e te ne preparo ancora si si metatarsia non gli chiedete un cazzo voi prego no 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 lasciatelo così mi chiedevo perché in tutte le stagioni i personaggi di Lorenzo instaurano rapporti morbosi con i bambini anche quando giocavo a casa è così ma che problemi c'ha si ma in tutto questo dove stanno le chiavi dell'ogre sul cadavere di sono attaccate sono attaccate in alto dalla gabbia non ce l'ave non l'aveva prese ah le lasciate attaccate alla gabbia perfetto io allora continuo a portarmela in droppa perché penso stai dormendo pare che dormi pare quasi che dormi vabbè io invece con la vino mi appoggio al braccio sano della vino dove devo riuscire ad arrivare da una parte dove c'è qualcosa da fare che non sia totalmente comunque sei disgustoso perché quella è mia sorella vabbè torniamo dove stavamo prima seguendo la ruzzola seguiamo sta ruzzola un attimo un attimo scusate manca un'ora queste chiavi ho capito ma l'unico motivo per cui è venuto qua è venuto sti cazzo dei chiavi ma porta presso cadaveri no aspetta ma ce l'aveva ce l'aveva la sorella le chiavi ma le chiavi due metri e mezzo due metri e mezzo infatti Trillice è convinto che la strada si sia addormentata perché ha questo bel pellicciotto che gli è cresciuto addosso è morbido quindi la sorella si l'ho fatto per lei è una scena disgustosa dai non l'avrei mai detto trama comunque da noi qualcuno con una statura normale può prendere un le chiavi ma le chiavi le ha prese metatarsi e si ha aperto ha detto che sono aperto e le ha lasciate e attaccato alla ferratura posso prendere chiavi senza avvicinare a Mallogre senza averci nessun problema e come tu sei alto sei alto quasi un metro e novanta quindi se tu non tocchi l'ogre non ci sono problemi quando l'ha punzecchiato da un metro e mezzo con la pertica ok allora cerco di fare questa cosa con dignità classe, velocità e andando bene quanto prima da quel posto bestemmiando tu con la pertica con la pertica piccola riesci ti fai passare a parte del tuo compagno e riesci a prendere le chiavi li metti nell'anello le tiri via perfetto andiamo usciamo usciamo io esco la scena a base disgustosa non si sta combattendo da troppo tempo per quanto mi ricordo torniamo dove eravamo prima guarda anzi io per non sapere nel leggere scrive visto che fra opalino mi ha parlato nella visione non ce ne andremo mai no 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 sto andando dove dici te ma visto che nella visione aveva visto degli alberi che parlavano con le voci e cose così io comunque prendo il legnetto che era mio fratello e me lo porto fosse che ci faccio qualcosa perché mio fratello si è legnizzato è diventato un trucco un bel focherello un porto ma sarà grosso ma sicuramente chi andate in giro con i cadaveri dei vostri parenti guarda Nicola io me lo sto chiedendo da tre anni il gioco di ruolo è fatto così anche per far uscire queste cose sì sì esatto faccio spurgare faccio spurgare faccio un scimo il gioco di ruolo è terapeutico io ti voglio ti voglio ricordare la tua voglio rimazzare la gente quando hai master l'ultima puntata di psicologia e terapia and dragons and dragons and dragons che vedi si arrampicano sui muri mentre parli ricordate che c'hai un fez con la cosa e tornava la stanza e porta a casa muto muto e sniper ancora un altro che mi arrecchi dolore no no tatu la verità fa male dei gobby tatu quanto cazzo sono ricchi stai zitto ma questo non si è fatto il video che è il video tornava la stanza dove eravamo oh le sti cazzi ma affanculo di mo solo dai di mo solo dai giochiamo giochiamo ragazzi giochiamo andiamo andiamo torniamo alla stanza dove eravamo prima tornate alla stanza dove eravate prima vedete appunto che c'è questo corridoio ormai le fiamme si sono istinte dall'altra parte e sulla destra un corridoio che prosegue lo seguiamo andiamo andiamo ritmo ritmo ti piace questa leadership bene ma questo sbilenco che ho fatto verso su esatto considera che in realtà andrebbe verso verso destra per all'incirco una decina di quadretti fai che va verso l'alto verso l'alto man mano che proseguite sentite dei canti sentite dei rumori sentite anche un odore molto umido classico odore umido e vedete delle ombre su questa su questa luce rossastra come se ci fossero molte torci accese delle ombre che si muovono come se stessero danzando avanciamo chi è la pensionata va avanti il pensionato ti muovi tra le ombre io mi muovo tra le ombre letteralmente 20% nelle ombre no in realtà nascondersi nelle ombre la so il 10% scusa sei l'età del livello probabilmente devi ho fatto 4 quindi ce la fai senza problemi sia nasconderti sia muoversi senziosamente ciò significa che puoi avanzare fino all'entrata e guardare che cosa che cosa c'è senza essere vista perfetto diabetus lo fa diabetus con estrema calma e ogni tanto mangiando uno snack si ogni tanto si avvicina più che altro uno è nascondersi tra le ombre che c'è tra un infisema e l'altro riesce a arrivare no infisema arriva tra due persone ah ok c'è anche un infisema andiamo bene si si certo si apre una stanza la vedi davanti a te è una grande stanza è molto grande è circa 20 metri per 20 molto molto ampio e c'è una scena esattamente come quella che ti è stata raccontata prima da fraopalino ci sono un gruppo di gnomi che stanno danzando c'è una piccola scalinata dove c'è questa donna bianca con questo vestito bianco una donna bellissima con uno sguardo folle come se stesse ridendo avviluppata adesso sempre di più a dei rami che sta venendo quasi alzata e portata verso questo enorme ceppo che vedete che sta ghignando sta ridendo sguaiatamente tu lo senti lo vedi e questi due gnomi un maschio e una femmina ai bordi che stanno alzando il coltello e c'è questo canto a specie di questo canto tribale e intanto vedi che ci sono due grossi rami di questo ceppo che stanno assorbendo energia dal suolo e nell'angolo destro della stanza c'è questa bellissima armatura bianca lasciata tutta lì accalcata in un angolo ok e niente allora ritorno dai compagni da loro e c'è appunto non uso il famosissimo linguaggio di segni dei ladri e per fargli capire che cosa ho trovato senza alzare la voce eccetera quello dei dei si al no sì sì tipo per meno così no e faccio fisicamente queste mosse qui ovvero di là ok di là è pieno è pieno 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 proprio pieno così pieno così di due hanno due capelli bianca due ragazze bellissime ah ragazzetta si beve ubriache che beve ci sono due ragazzi ubriache in mezzo alla cetica e calice reali su carlo ok vabbè ho capito c'è la dama bianca andiamo di là andiamo di là ma perché non c'è surri stiamo urlando smusate ragazzi raga io so sore da una bianca io corro nella stanza aspetta però sussurrando tu corri eppi dentro la stanza se capisco che c'è la dama bianca e che cazzo sarebbe tu se capisci oppure no se mi sembra se si prende la macarena ma gliel'ha detto pure c'è la dama bianca e mi ha fatto così con la testa perciò io prendo e se loro mi vogliono fermare mi fermano se no inizio a correre io gli faccio uno sgambetto ma vai con dio ma chi ti ferma tu corri fatelo morire una volta sto stronzo corri nel mezzo nell'esatto momento in cui tu entri vedi la dama bianca che ti sorride e ti facendo di avvicinarsi a lei ecco senti una voce terribile vedi proprio questo viso deforme che prende forma all'interno di questo ceppo un ceppo nero come la notte un nano è giunto al nostro cospetto miei piccoli schiavi goe gnomi nano vuoi il potere io non rispondo e lancio lascia verso lascia si lascia la lancia che si lancia potete anche schiattare però cos'è che insegnavano i ghostbusters quando alla domanda finale lì sei tu un dio bisognava rispondere non incrociare sì devi rispondere se un dio ti chiede se un mostro ti chiede se un dio tu rispondi tu sì 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 sincero sì voglio il potere casomai figlio io il potere voglio tu il potere nano sì e lancio la lancia lascia ti rispondi di sì è sarcastico è sarcastico è sarcastico fammi un tiro per colpire mi piace questa tua azione suicida eh lo so però è destrezza immagino eh ma sì fa meno destrezza però la lancia con due mani quindi può anche essere forza è grosso è nano 14 15 16 in totale per colpire eh sì lo è colpito ok ci vuoi dire qualcosa di più? abbiamo vinto? finito ti faccio fare una scelta grazie che bello vuoi colpire il ceppo proprio che si ficca in mezzo alla faccia del ceppo o vuoi tagliare i rami che avviluppano la dama bianca forse volevi fare questo vada a cosa rispondi ma io ti sarò sincero nella mia mente mi ero immaginato che l'ascia si conficcasse su questo volto che sarà creato dai rami l'ascia penetra all'interno del volto tirami per i danni mi avvola stiamo giocando mi sembra stiamo giocando proprio sul serio i danni e si è frizzato Riccardo? ah no ok no no ci sei ci sei se non devo aggiungere nulla non mi ricordo no la forza ci devi aggiungere no da distanza no scusa lascia entra inizia a uscire un liquido nero il calice che era posato sopra questo ceppo si ribalta immediatamente cala il silenzio vedi che la dama bianca immediatamente torna a sedia inizia a tremare dove sono? dove sono? happy! happy in quello due nani due gnomi saltano verso di lei con i coltelli alzati gli altri gnomi si mettono tutti quanti davanti al cerco come a difenderlo io vorrei andare a prendere l'armatura l'armatura è nell'armatura nel casino riesco ad andare a prendere l'armatura poi adesso siete tutti quanti lì adesso potete tirare tutti quanti iniziativa ho uno solo vado io? vai vai tu questa c'è uno solo uno sei cinque mamma mia ragazzi allora venti no scusatemi dieci gnomi davanti l'adama bianca tra gli gnomi e queste due creature dietro queste due creature questi due gnomi più grossi rispetto agli altri con questo tatuaggio in questo tempo con questi due coltelli che sembrano veramente dei coltelli rituali e questo ceppo nero che sta urlando quando entrate anche voi a tutti quanti lo sentite dentro altri ospiti e questi schizzi di sangue nero come di pece nera che escono dal cielo qualcuno di voi vuole il vero potere io mi accontento del brillo io volevo l'armatura lui vuole il potere allora il potere forse se tu sei sincero e vuoi il potere il ceppo ti dice che è disposto a prendere la tua anima in cambio di forti poteri magici ecco questi includono di utilizzare tre dardi incantati e una protezione dal bene ma in cambio il ceppo richiede protezione venerazione e sacrifici di sangue e scusa proprio quello giusto beccato signor ceppo tre dardi incantati e protezione dal bene perché potete dirlo sì dammi la palla di fuoco per l'anima ecco effetti è l'ultima puntata Nico e devi farlo cioè è proprio poco tre dardi incantati ad elfo contratta con un tronco con un ceppo almeno immediatamente compare Abba con un tronco almeno delle pentole la mia è stirperiana elfica la mia anima ha un valore supremo in quanto di una purezza rara discende da elfi purissimi che cazzo mica mi vorrei valuta la mia anima come valiti l'anima di un nano the nalfling di un umano madonna quanto parli fa bene fa bene elfo hai una palla di fuoco ecco in un momento senti dolore nei pantaloni adesso fa la Riccardo io lo so fa la Riccardo ok la accetto vieni dalla mia parte elfo ok quando vai vedete che ad elfo si sposta e si mette dalla parte dei vostri amici beh giovani a me non è mai stato molto simpatico io l'ho conosciuto qualcuno è sorpreso adesso poterà a te agire dopo che hanno aggiunto i tuoi compagni quindi sarà a te decidere effettivamente da che parte stare ok signori avete fatto 6 io ho fatto 5 eh già quindi prima gli incantesimi primi incantesimi poi attacchi a distanza poi attacchi una mano poi attacchi due mani io incantesimi protezione bravo quindi che devo fare protezione dal male perfetto te lo puoi castare su di te è andato spiegamelo aspetta scusami sei chiarico forse puoi castarlo anche addosso a qualcun altro puoi castarlo su di te o su qualcun altro fra un parino in questo caso su di me perché le pozioni eventualmente la pozione che ho eventualmente la do a qualcuno nel caso di ferite perfetto allora tu guadagni un più uno e tiri salvezza e qualsiasi persona cerca di colpirti a un meno uno grazie va bene ti casti addosso questo incantesimo quindi ottima ottima scelta davvero specialmente sapendo che di là c'è adesso qualcun altro vuole utilizzare qualche incantesimo infortunio allora io vorrei volevo capire scusa dov'è che stanno gli gnomi hai detto che si sono schiera di tre gnomi sì sono davanti sono davanti ma cioè stanno più in alto sotto le scale no no sono autoassistente di altezza va bene e guarda allora io mi produco nella migliore imitazione che so fare del mio defunto fratello archipendolo e in realtà sto castando sonno perché lo trovavo incredibilmente noioso su chi lo casti i suoi gnomi sì non su quelli per i coltelli rituali no intanto abbiamo quanti questi no perché comunque prima prende quelli che hanno i dati vita più bassi ok allora un secondo che vedo quanti quanti sono dammi un attimo pam 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 allora sonno allora puoi prendere tirami due di otto per favore un altro di otto non ce l'hai no va sì grazie 3 e 6 cioè 3 più 3 totale 6 più 6 di totale eccellente eccellente come funziona sono tutti gli gnomi hanno dato vita solo quindi sei gnomi cascano letteralmente al suolo cosìate che adesso per ucciderli basta proprio dire lo colpisco non ce l'ho per colpire né niente vengono uccisi in automatico se li volete uccidere cascano tutti quanti al suolo non si fotte col catastro perché vedete questi sei gnomi che cadono al suolo ok trillice state la palla di pelo sì 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 palla di pelo io faccio palla di pelo no allora fammi pensare io ho mia sorella sul gruppone quindi insomma mi metti in una sezione riparata perché la voglio proteggere e provo a tirare con la fionda nell'occhio del ceppo perfetto va bene non è facilissimo perché ti ripeto hai davanti questa dama bianca con questi due qua dietro quindi è più difficile prendi allora ho fatto in totale 19 lo colpisce la grandissima perfetto quindi tiro i danni sì 4 lo colpisci nell'occhio vedi proprio alcune schegze di legno che partono vedi che pian piano ogni volta che lo colpite viene pompata meno energia si affievolisce tanto che vedete queste norme siete dentro in questa stanza dove è ricoperta queste lastre di pietra per terra però man mano che l'avete colpita prima molto pesantemente il giovane happy tu adesso con questo colpo della tua fionda vedi un piccolo un piccolo germoglio verde acceso che esce tra due piante tra due scusami tra la fenditura di due pietre ok la fascia si riforma un pochettino più di lato aspetta scusa non ho capito il germoglio quindi da davanti al ceppo nasce non ho capito ok no non davanti al ceppo da vicino cioè è per farti capire che non sta più assorbendo tanta energia sotto la qua capito capito perfetto il ceppo quando viene colpito emette un urlo molto quasi grugnesco questa voce brutta e sguaiata che ha e sentite che proprio dice gribble grim uccidete e donatemi il loro sangue di questi profani che sono venuti a disturbare il nostro sacro rituale sta a voi ok io volevo mandare avanti la vino brava tanto ormai bravissima ecco cosa facciamo di seguirci la vino la vino ha solo un braccio e quindi ha solo la spada si 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 no ma la vino ormai è un uomo distrutto la sua vita è finita nel momento in cui ha visto il povero cadavere di cataratta e quindi prende un'ampolla o più di un'ampolla d'olio quindi insomma me la chiede io non capisco bene però o no e quindi niente stappa questa ampolla dice questo è olio e io mi molo per la mia dama e comincia a correre tantissimo con l'acciarino acceso e si lancia ma se poi chiede a qualcuno di ammazzarlo di ammazzarlo no ma io ho pensato che la vino ormai è andata ma vai dimmi niente face palm allora questo qua si stanno andando a suicidare nel senso è comunque sempre un tuo seguace non è che è uno stronzo eh lo so ma è chiaramente un uomo distrutto tu vuoi puoi provare a fare perché loro fanno i tiri di lealtà quindi devi fare un tiro su carisma per convincerlo selvaggiamente a fare questa cosa però aspetta se mi ruoli una mora motivazione tu puoi avere dei bonus e l'avigno può avere dei dei malus che l'avigno fa dei tiri di morale ricorda di migrare dopo una volta che hai ruolato due di sei per la lealtà di l'avigno ok allora quindi che cosa gli dici dai lo prendo da parte durante un combattimento durante un combattimento no appunto gli faccio così sul sul volto gli faccio caro Lavino io vedo che la morte di Cataratta ti ha distrutto sei ferito nello spirito e anche nel corpo conosciamo un istituto che potrebbe aiutarti io so che vuoi renderti ancora utile non so se tu sarai in grado insomma vedo che il tuo spirito è anche un po' spezzato però però qui c'è un grande bene che può essere fatto un grande bene per la lava un grande bene per l'anima immortale di Cataratta è un grande male da sconfiggere avrai tu il coraggio necessario per fare quello che deve essere fatto tempo inception momento di ruolo prima fai torrenti faccio un tiro con due di sei con un più due e io faccio un tiro con due di sei con un meno due no rega ma stiamo a giocare sul serio con i tiri le regole ma è incredibile otto meno due io ho fatto sei io ho fatto quattro sei più due uh paro mi è cresciuto il master è tirato in di sei tutti e due magari vedete chi fa a me piace molto questa scena qua anche se non sono molto per l'uccisione gratuita quindi te lo faccio fare solo perché ci sarà un bellissimo plot twist ok l'aligno si cosparge di olio inizia a correre ma stai vedendo come lo rucai senza braccio esatto e mentre urlo ovviamente sta urlando cataratta perché non parla da allora si butta nell'esatto momento in cui sta arrivando i neuroni di happy si scontano tra di loro cosa? gli unici due che hanno cosa? ictus neuroni di happy happy scusami mi potresti dire chi c'è nel mezzo esattamente dopo l'ignomi non mi ricordo bene la dama bianca la dama bianca la dama bianca la dama bianca l'urlo per cataratta per l'uva e spalda un lavigno di fuoco avvolge tra le fiamme i due gnomi e la dama bianca pensavo il ceppo figura ammazza che fuori il ceppo è dietro si fatti delle urla iniziano a uscire dalle bocche dei due gnomi e della dama bianca è sul problema tirami un D8 danni per favore questo era un pallavigno di fuoco è un pallavigno di fuoco no perché sono ripetitivi ogni round 4 perfetto 4 danni da fuoco ad ogni round a meno che qualcuno non spenga il fuoco quindi non è una cosa immediata sui nemici è molto importante lo tiene automatico anche il ceppo un che gli arriva il fuoco addosso dai brucia e la vigno alzando l'altra mano l'ultima mano che gli rimane questo non lo posso fare guardate che quelli che hanno fatto questo gesto sono accomunati da una stratifica e adesso tocca però veramente a a Diabetus che ha usato il suo seguace ma tocca a lui che cosa fai? che faccio? ci sono piangendo i due nani che stanno i due gnomi scusami che stanno stanno andando a fuoco stanno urlando il ceppo che si sta impazzendo quelli che erano per terra sono andati a fuoco sono morti e anche la dama bianca che sta iniziando a urlare vedi che comunque sta prendendo fuoco tutto il suo vestito allora io a fatica tiro fuori la spada ho una spada che bravo ragazzo posso essere io da meno e quindi con la spada attacco aspetta chi c'era vicino ci sono ancora ci sono c'era in mezzo c'era la dama bianca e due nani infiammi ci sono due gnomi che una è la sacerdotessa del ceppo e l'altro è il sacerdote del ceppo e dietro c'è il ceppo e sul lato c'è questa armatura ok c'era la bellissima armatura no vabbè io comunque vado verso la verso la sacerdotessa perfetto fai un tiro per colpire yes 17 17 lo colpisci in pieno bomba yes e quindi tiro un di 8 giusto spada un di 8 5 la possibilità che lo uccidi non lo uccidi tu la oltrepassa oltre per volte con la spada prove di lei che si blocca davanti a te ti mette come una mano sulla faccia ma sta a ad elfo vedo no 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 per ultimo questa a me sta a ci sono texto happy dopodiché solo arbitro scolù l'informazione no c'è anche c'è anche fra la nostra palino se è seca stata addosso ecco quindi non posso qui attaccare no tu puoi camminare però puoi avvicinarti qua non puoi attaccare un incantesimo di protezione puoi decidere dove andarti a ubicare all'interno della stanza vado io perché tanto l'ascia non ce l'ho se la lascia è incastrata nel ceppo corro verso la dama bianca per afferrarla al volo e col mio corpo provare a spegnere le fiamme che la stanno avvolgendo tu la prendi, ti butti in mezzo dai però la schiena al sacerdote le dai delle pacche in giro le strappi un po' il vestito, le vesti gli lanci il tuo mantello le riesci a spegnere il fuoco le si è fatta solo 4 danni è ferita, vedi che ha delle bruciature però non troppo alcune ciocche che sono andate a fuoco però vedi che ti fa una carezza un po' con una mano amerita cosa è successo? tu sei rinvigorito ma però hai lasciato la schiena scoperta io vado a prendere l'armatura perdonami perché prima faccia tutt'altro che cosa fai? l'armatura dove è ubicata l'armatura in questo modo l'armatura ubicata esattamente dove c'è il ceppo sulla destra quindi non ci posso andare serenamente perché c'è gente nel mezzo no no se tu vai di lato sì però c'è ma perché andare di lato è da perdente io vado dritto in mezzo ai nemici e cerco di farmi largo tra i pochi voi stronzi rimasti allora perfetto devi farmi un tiro di destrezza per passare sennò vieni ubicato no no io voglio colpire carico voglio quelli colpisco mi faccio largo con la spada allora c'è di tu che colpire c'è la sacerdotessa molto ferita vedi che c'è il sacerdote che sta alzando il coltello andrò verso il sacerdote che è comunque il più vicino tra me l'armatura e la persona mi piace come non focusate mai perfetto vai ma perché noi ruoliamo Nicola noi ruoliamo ho fatto 11 quindi direi che non ho preso niente non hai un bonus non l'hai preso aspetta aspetta tu vai addosso aspetta 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 non aveva aggiunto la forza no non ho aggiunto più faccio 13 faccio 13 ok 13 lo colpisci che culo bombo 1 di 10 vai 1 di 10 sì 4 purtroppo spada a due mani ma 4 non è la forza più 2 6 sì più 2 6 lo colpisci anche tu ti frappone tra te questa incredibile armatura lucente lo ferisci ma non lo moro anche lui ti guarda vedi che estrae la spada si porta indietro sanguina e al coltello in questo momento puntato contro di te ed è il loro turno ecco voglio provare prima di tutti adesso adesso che cosa fai da che lato ti schieri ho avuto altre istruzioni dal ceppo no il ceppo sta chiedendo un sacrificio di sangue sto accanto al ceppo giusto sei accanto al ceppo e loro so più o meno tutti attorno a me la dama eppi tutti tutti tranne fra opalino ma mi sono messo in discarte per affiondare quando fra opalino scusate fra opalino infortunio e e trillice la squadra dei figli ok quanto quanto rengi c'ha una palla di fuoco sei per sei dico subito 36 sì ma questa è una cosa già vista in due stagioni sì infatti madonna siamo derivativi cambiamo un po' ogni tanto anvidiosa anvidiosa sai per sé un botto di spazio è tutto lo spazio occupato sì sì è quasi un mini appartamento citata 72 metri in una sfera di 6 metri di raggio quindi 12 per 12 ok direi che se la sparo qui prendo tutti me comprendo prendi tutti te l'ho preso gli altri tutti quanti allora voi non vi siete mai interessati a mia famiglia e il vostro gruppo voi con vostre visioni avete forse voi chiesto quale mia visione anche io avevo una visione ma infatti una visione di un singolo elfo razza purissima posto su un podio e sotto di lui razza di elfi e di nobili individui che seguivano il suo potere e la sua direttura morale voi non siete tra quelli tu 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 giri con tua sorella morta come vuolta? spalle incapace e orribile aberrazione e tu 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 che pensi solo a vile denaro oh che bello dungeon oh che bello dungeon non combattere male la purezza io penso pure alla Lazio però tu mostro hai appena mandato tuo fedele servitore verso morte certa ma non si parla così da me purezza tu troppo stupido per pensare sempre seguire ordini unico unico uomo decende e mezzo uomo è quel nano che soffrirà come tutti voi e come me perché io ho visto elfo guidare razza pura ma non ero io quell'elfo è mio fratello che è più grande e più puro di me palla di fuoco lo Foken 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 non gli posso dire a uno scudo in faccia Riccardo che l'accetto si piedi Riccardo Riccardo ma lo scudo è a spizzare così e demi voler sono sei di sei quello c'è protezione d'armale però potete fare un tiro salvezza contro incantito e i di sei per dimezzare i danni guarda che momento simbolico per farci uccidere un momento simbolico 4 ce n'hai altri di sei invece di fare il tiro salvezza ecco io me ne frego però io ho lo scudo anche non mi interessa di salvarmi ma la cosa più importante è che con lo scudo riparo il corpo della unico uomo nobile ma ma che deve essere tra un po' c'è la bracetta cerco di salvarla perciò io non tiro se tu mi dici che facendo sta cosa posso salvare almeno lei è andata quasi bene 17 19 19 oh ma quasi quasi fate tutti quanti ragazzi un tiro salvezza contro incantesimi sì ma tanto ha perso lui e quei dati c'hanno tutto il covid mi ricordi se dobbiamo andare sotto il suo dobbiamo andare sopra o sotto sopra e sopra sopra il salvezza è sempre sopra c'è scritto contro incantesimi danni ricordati che tu hai più due sono incantesimi come si vede c'ho svantaggio allora se va bene che ho fatto uno 13 17 13 1 implodo proprio tipo corriandoli io ce l'ho fatta ce l'hai fatta? ce l'ha fatta guarda che incantesimi ti salito sulla palla di fuoco significa metà dei danni sì vabbè potrei sopravvivere ma io non ce l'ho fatta chi l'ha passato prende dieci danni morto morto ho ancora due punti vita e che culo chi non l'ha passato si prende dieci danni ok ah vabbè il mio elfo arde nel fuoco gridando per la purezza dei giocatori migliori ah ok ah ah naturalmente dieci danni se le prende in faccia anche il ceppo che arde chi è rimasto in piedi? la dama bianca e la dama bianca è rimasto in piedi Dexto io sono rimasto in piedi due da due punti e Dexto e Dexto vabbè io e la dama bianca ce ne andiamo via e cosa Dexto tu vedi il cane scusatemi il ceppo proprio bruciare ardere e distruggersi nell'esatto momento in cui si distrugge vedi che pian piano rigogliosa ricresce la natura dentro dentro la quercia questa armatura meravigliosa bianca è adagiata ad un lato stacchi il cadavere carbonizzato del nano che con lo scudo si è messo con lo scudo è lui a difendere la dama bianca e salvi questa questa dama sei il principio azzurro sei effettivamente il principio azzurro prendi l'armatura l'armatura vedi che nell'esatto momento in cui la tocchi è come se si animasse ti calza a pennello come una mobile come fosse una tutta di pelle una mobile suite esatto ho pensato la stessa di che cosa allora che male che si è messi è bianca è bellissima vedi che in automatico si fa la barba i capelli capelli azzurri è il principio azzurro è il principio azzurro la dama bianca che ti guarda tu le porgi la mano io guardo le sceneri dell'elfo bruciato e faccio elfo l'importante non essere intelligenti essere gli ultimi in piedi Dexto porta la dama bianca fuori il duca di Brackenbell effettivamente quando è uscito a prendersi Dexto vedi che pian piano tutte le cose atroce che hai visto dentro questo dungeon vengono sommerse da quello che è una natura rigogliosa bella felice esci anche la stessa quercia ha fatto anche cose buone l'elfo ma va a fangu ha bonificato ha bonificato ha bonificato la quercia ha bonificato la quercia tu esci e ogni volta che cammini vedi proprio come se lasciassi dei fiori si tarda oh la madre il duca di Brackenbell ti viene vicino la quercia stessa diventa rigogliosa non è più nera è scura ma vedi queste belle queste belle foglie verdi intense come se si rianimasse si chiude questo squarcio dietro di te tutti gli occhi sono puntati su di te il duca di Brackenbell ti guarda e ti dice cavaliere Dexto appoggi la dama bianca e gli altri nani che vengono la volgono subito ti prego dimmi cosa è successo sei l'unico che è uscito vivo c'è niente uno dei passaggi cos'è successo è successo quello che doveva succedere alla fine è successo che gli immaginifici sette ovviamente erano i guerrieri migliori e siamo usciti i vincitori adesso una nuova sfida ci attende non sappiamo ancora quale però intanto la cosa che faremo sarà ergere un mausoleo a Quinno il povero Quinno anzi soprattutto ma pure a Eppi scusate l'unico vero eroe di questa campagna ah no vabbè sì vabbè sì poi vabbè magari mettiamo anche una stradina per il nano che è stato bravo ma soprattutto dobbiamo ringraziare quel valoroso elfo che ci ha aiutato con la palla di fuoco è stato veramente bravo sembrava quasi ci volesse prendere però ha visto alla fine l'ha tirata in modo che noi rimanessimo gli ultimi in vita bravo bravo ma poi chi? tu e chi? tu e la dana come duca di Brackenberg dichiaro che d'ora in poi tu sarai Dexto il cavaliere della quercia e voi elfi potrete tornare a vivere felicemente assieme a noi visto le ottime parole che ha speso il cavaliere della quercia oh no sul vostro fratello in modo tale che possiate vivere in armonia con tutte le altre razze è nostra intenzione Führer ah sì mi piace siamo su tutti i tedeschi io sicuro che farete solo cose buone io avrei una cosa da dire c'è l'ultimo c'è l'ultimo io avrei una cosa da dire voi famiglia avresti gli occhiali eccoci scusate l'ultimo Gualtieri il peggiore Julius l'avvocato è molto felice che Casa Elfo a Casa Elfo sia stato concesso di vivere in mezzo a noi e spero che così come la purezza della vostra casa vi indica chiaramente la via verso la grandezza altrettanto chiara vi sia la via verso il tribunale perché faremo causa ai vostri ossuti culi finché non caccheranno sangue con permesso ragazzi in maniera molto rocambolesca i rispettivi le rispettive casate e gruppi che si ritirano verso i loro luoghi d'origine avete in una maniera non convenzionale risolto l'enorme piaga del ceppo dentro la quercia del culto di sta ceppa e avete liberato la celpa grassa dalla maledizione che la condannava signori la campagna è finita grazie a dio grazie ogni volta io sono convinto che non potremmo mai raggiungere vette più alte e purtroppo siete sempre in grado di di fare più schifo esatto letteralmente Nicola la cosa però questa sera sono rimasto molto invidioso di vedere quanto vi state divertendo al tavolo ho cercato in ogni modo di uccidere l'elfo nazi di Robby poi ha fatto lui hai visto in ogni modo si e ne sono andate in una lampa di gloria Nicola ma in questi ultimi dieci minuti fai vedere a tutti quanti perché sei il master più figo e capelluto del mondo dando degli epiloghi individuali a ognuna delle nostre casate così senza problema rillutibrio di tutti noi senza problemi senza problemi ah Nicola prima che inizi io ti ricordo che quella chiave che avevo trovato l'avevo fatta portare dalla vino ai membri del lava quindi c'hanno quella chiavetta fine che chiave è quella che ho trovato dentro ai mantelli prima del b&b degli uomini capra esatto apriva il bagno degli uomini capra sì era la chiave dei bar che te la danno ah e anche l'anello afflitti di aver perso la sorella che ben tre fratelli come persa è esplosa ragazza ha fatto allora non lo sapeva non lo sapeva ok allora afflitti ok afflitti di aver perso due fratelli no no che gliel'hai detto si dirigono verso casa quando sentono una voce si girano e vedono un fauno una specie di fauno con la testa di pecora che li guarda oh giovani eh eh afflitti quanto l'odio volete vedere a rinfocillarvi da noi abbiamo delle ottimi pasticci di carne e del te lo faccia così no no gli affling la prego magista vogliono assolutamente rifoncillarsi entrano all'interno di questa piccola casetta e questo piccolo fauno della faccia di capra con un sorriso beffardo ti viene benissimo un sorriso beffardo bravo ma donna che brutto epilogo che c'ha da 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 eh oh poveri pondule come si chiama come si chiama l'ultimo della tua casata dei gualtieri Julius però c'è sempre Abbaco dentro con l'ufficietto però Julius è l'ultimo l'avvocato Abbaco è rimasto lì a posto proprio Abbaco sta in questo momento bestemmiando contro Coseno perché in continuazione questi piccoli rami che escono gli stanno spostando le palline del suo Abbaco e sta facendo un casino allucinante coi conti e c'è di vicino Coseno con delle piccole cesoie che con una velocità incredibile sta tagliando tutta questi piccoli rami che crescono e Abbaco si sta rendendo conto che forse prendere un ufficio in un luogo così umido dove le piante crescono così velocemente non è stato un affare ma si rende conto che effettivamente l'affitto è gratis quindi va a fanculo tanto ha anche il giardiniere che è anche il stagista quindi ha risolto Julius in quello segue gli ultimi due elfi poiché non si fida ed è già pronto a fargli un curo così in tribunale mentre gli elfi passando si iniziano già a animicare tutte le altre razze perché non appena questi si avvicinano con un sorriso questi elfi gli schifano e o li spostano via con la punta della sfada o iniziano proprio a sputare ai loro piedi il conte Brackham forse si rende conto di aver fatto una stonzata i rimanenti membri dell'ordine del gomito alzato stanno bevendo come degli stronzi finché a un certo punto uno di loro si gira e fa oh ma dove cazzo sono fra Ialine e fra Opaline bene si guardano fanno spallucce e continuano a bere tazzano esatto tazzano ecco i nani con la dama bianca tornano nel loro regno sulle montagne vicino alle ai monti di regole questa zona a nord di dolmenwood e costruiscono una bellissima tomba su ordine della dama bianca affinché venga sempre glorificato Happy l'unico nano che ha agito con l'ingegno e non con la violenza e che ha dato la vita per la loro protetta era il migliore di tutti noi e infine infatti è morto eh già Dexto e i suoi magnifici sette ora tre si dirige con questa effigie di essere il più grande cavaliere esistente e ritorna verso i suoi casati che adesso vengono dominati appunto vengono chiamati il dominio della quercia dove continuerà con i suoi fratelli ad allenarsi perché ormai essendo il più grande cavaliere esistente probabilmente verrà ucciso da uno dei suoi fratelli perché l'unica cosa che possono sfidare è la cosa più forte che ci sia quindi il suo fratello quindi vivrà una vita a guardarsi le spalle e infine i miei vecchietti la lava ritorna nel loro quartier generale un piccolo ospizio dove passeranno serenamente i loro ultimi giorni con un'allegra combiccola di baldazzosi fratelli biondi che non si sa come mai hanno una strana perversione o una strana attitudine alle loro umili e raggrinzite grenze bene signori un epilogo osceno che amarezza ci hai fatto scendere mamma mia non ti contenti l'unico che ha avuto un bellissimo epilogo è stato perché è l'unico che ha cercato veramente di difendere la dama e ha deciso di combattere con degli ideali e soprattutto ha disegnato la mappa ha usato la testa e non è mai morto quindi vuoi dire che happy e riccardo torti hanno vinto tecnicamente hanno vinto un gioco di ruolo tecnicamente quindi si vince un gioco di ruolo dexto ma si vincono in giochi di ruolo il premio della critica è il vincitore morale però il premio della critica si va manica dei mostri mostri c'è dei stati dei mostri tu l'hai fatto l'ingioggi a sto ma il faggio quell'altro mi ha buttato dentro la stanza per uccidermi ma tu hai fatto la stessa cosa e vai diventare rossa ma che cacchio mostri mostri adesso la prossima stagione fa 5 minuti cominciamo per la nuova settimana vabbè la prossima cyberpunk si io voglio i miei ma little pony drawings and neons dai guarda senza farla apposta ecco qua ma te credo c'è lavori con queste cose manca farla apposta fallo rivedere il manuale il manuale per carità il manuale il jumpstart kit non è il manuale attenzione tanto gioco ce l'hanno rimandato almeno ce l'hanno a quello va bene grazie a tutti quelli che ci hanno seguito grazie a tutti ragazzi grazie a Luca grazie a Luca sono soddisfatto sono soddisfatto per svariate campagne future perfetto non ho più sete di uccidervi ogni volta mi avete fatto molto divertire io pure mi devo dirti non so si mi avete fatto molto 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 divertire non mi aspettavo una palla di fuoco finale così speravo che davvero le ilfo si ribellasse ma devono finire così le nostre stagione esatto che cazzo fate in cyberpunk parla de neon il mio ilfo si è ribellato comunque volevo dire che allora la puntata questa puntata qua la cariceremo sul canale youtube però dopo che sarà finito il festival insomma quando Luca riuscirà a darci il file e volevo ringraziare i ragazzi di supernova collective che ci fanno la sigla è vero eh vabbè è la posizione è la posizione è il mezzo opposto è il mezzo sì assolutamente tutti i ragazzi che sono qui voi non li vedete ma ci hanno hanno reso possibile questa serata esatto ci mettono un sacco grazie ricordatevi una cosa a cui ci tengo che anche se non c'è la lucca fisica ci sono veramente un sacco di eventi un sacco di panel quindi c'è seguitela online non è la solita lucca che siamo abituati ad amare però lucca è lucca quindi dobbiamo di sostenerla anche in questa maniera qua domani c'è il mio panel a mezzogiorno ecco io se forse in voi lo vedrei addio con pezzali io sono fatto un zon per la sera se volete vabbè lasciamo lì da soli grazie a tutti grazie a tutti ancora grazie 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 mille grazie a voi giustatori grazie Lore grazie Dario grazie Denis grazie Lore grazie Nobbi grazie Dani grazie Ricky quanto cazzo sono lì ciao a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti